Allora, partiamo appunto da un primo vastissimo tema che provo a raccontarvi, poi l'incontro di oggi, come vi dicevo all'inizio, Jacopo è ancora arrivato, era anche per darvi molto più prosaicamente, darvi un po' di competenza, o comunque aprire, visto che siete per lo più storici dell'arte, comunque, magari avete frequentato meno la storia del cinema e soprattutto del pre-cinema, darvi alcune nozioni, alcune aperture, più che nozioni, perché poi, coloro foste interessati, ovviamente vi suggerisco anche dove trovare gli approfondimenti su, appunto, tutta la dimensione spettacolare, visuale, pre-cinematografica, ma anche pre-fotografica, soprattutto, fine Settecento, a parte il caso, lo state già vedendo, la Lanterna Magica, inizio Ottocento, per dirvi intanto una cosa che noi tendiamo sempre a banalizzare, nel senso che ogni epoca, diciamo così, dagli anni Sessanta in poi, è stata l'epoca dell'invasione delle immagini, della società delle immagini, eccetera, in realtà la prima vera società delle immagini è proprio questa, cioè quella dell'Ottocento, fine Settecento, inizio Ottocento, è in questo momento che si manifesta in modo prepotente un desiderio di visualità. Poi vediamo come, non solo, e qui io non la faccio lunga, anche perché, ripeto, non sono poi un esperto a questo punto di vista, ci sono testi che lo possono dire meglio di quanto, per esempio, quello di Crary, non solo questo prepotente desiderio di visualità, ma, come vi stavo dicendo, poi leggiamo anche alcune cose da Crary, contemporaneamente il corpo umano e soprattutto l'occhio, come appunto sistema di cattura dell'esperienza esterna, del mondo esterno, cominciano proprio in quegli stessi anni, fine Settecento, ma soprattutto inizio Ottocento, ad essere investiti di un interesse che non è più appunto un interesse puramente matematico, astratto, ma il corpo guadagna, e qui appunto tutta la fisiologia ottica, guadagna una centralità, proprio come dispositivo carnale che mai aveva avuto. L'associazione fra questo modo di ripensare il corpo in azione, lo sguardo, non l'occhio appunto, ma lo sguardo, un corpo che raccoglie la realtà attorno a sé, e non semplicemente l'occhio come strumento ottico, scusate il gioco di parole, questo modo dicevo di ripensare appunto l'osservatore e le pratiche di sguardo da un lato, e dall'altro appunto la moltiplicazione, vedrete, folle, anche curiosa oggi, eccentrica, di dispositivi di visione, cioè appunto che spingono, forzano l'esperienza visiva, ma di nuovo intesa in senso ampio, come appunto esperienza del guardare in un ambiente mediale, queste due dimensioni che sono poi, la ritroveremo sempre questa associazione dialettica, spettacolo e scienza, questa associazione si fa appunto, non affatto casuare, ma appunto sono due termini che noi dobbiamo tenere sotto controllo e riportare sempre a una, se no a una radice comune, senz'altro a un sentire comune. Lo stesso, ed è l'unica, perché poi è un gruppo di lavoro straordinario, quello di Pineotti, l'unica piccola critica che si può muovere all'australiano lavoro che stanno facendo è proprio questo, cioè di aver un po' confinato tutta la riflessione sulla realtà virtuale dentro un territorio che è la storia delle immagini e dei dispositivi, e di stare un po' trascurando, a mio modestissimo parere, tutta un'altra storia, perché per esempio loro, proprio dato che sono filosofi, la storia del soggetto, perché le pratiche evasive, che siano processi di avatarizzazione o fughe nella realtà virtuale, eccetera, dovrebbero anche essere messe in dialogo con una nuova idea, o comunque un'idea che è sempre stata mutevole, che però oggi ha raggiunto appunto un nuovo livello di comprensione di soggetto, di soggetto appunto di spazio, e chiaro ci ricorda sempre che bisogna poi ragionare anche su questo, di realtà, eccetera, eccetera, cioè bisogna anche poi tenere in considerazione altri fattori al di là poi di una storia delle immagini e dei dispositivi. Detto questo poi, ripeto, è un lavoro, intanto continua, non lo sapete, è un gruppo che continua poi a produrre pubblicazioni anche molto interessanti. Comunque partiamo da qua, forse la conoscete questa cosa, che si chiama appunto Lanterna Magica, la Lanterna Magica è un dispositivo, qui lo vedete perfettamente illustrato, che si diffonde a partire dal 600, prima dell'avvento del cinema, il cinema di fatto pone la parola fine sulla Lanterna Magica, ma considerate che ancora fino ai primissimi anni del 900 il cinema ufficialmente viene inventato nel 1895, brevettato e per la prima volta esposto, diciamo così, pubblicamente nel 1895, la sua diffusione, lo sapete, è rapidissima, quindi dal 1896 nel giro di due, tre, cinque anni, l'ultimo quinquennio dell'Ottocento, il cinema ha già soppiantato moltissime delle cose, alcune erano già finite, alcune delle cose che vedremo, per esempio lo stereoscopio, e soprattutto la Lanterna Magica, però la Lanterna Magica è stata per quasi sette, ottocento, diciamo, due secoli e mezzo, è stata la principale risorsa visuale, e però anche multimediale, perché questo signore qui, che proietta, è anche spesso, in questo caso, all'interno di un salotto borghese, spesso nelle piazze, è anche un narratore, quando la Lanterna Magica, a partire dalla metà dell'Ottocento, comincia ad essere commercializzata, vedete, questa è una Lanterna Magica abbastanza secondo 800, adesso vi spiego rapidamente il funzionamento della Lanterna Magica, quando comincia ad essere commercializzata, ad uso poi individuale, era un gioco per bambini, insomma, era diffusissima, poi ad un certo punto, grazie alle pratiche, la stampa dei vetrini, quelli si chiamano vetrini, diventa anche molto economica, dicevo, quasi sempre accompagnata da testi scritti, allora, nelle vicende, diciamo così, come queste di piazza, beh, qui addirittura vedete una lezione, adesso poi a questa arriviamo, però, appunto, nell'esibizione di piazza, questi sono i, la Lanterna Magica era uno spettacolo ambulante, insomma, appunto, gli ambuli, i cosiddetti lanternisti, che giravano l'Europa, appunto, con le loro lanterne, fermandosi nelle piazze, e appunto, dimostrando, negli spazi aperti o chiusi, la nuova invenzione, dicevo, spessissimo, questi lanternisti erano anche dei narratori, per cui la proiezione delle immagini, questo è importante, proprio nell'ottica, nella nostra ottica, appunto, di descrivere ambienti complessi, multimediali, benché, appunto, la meraviglia fosse, per una società poco abituata al rapporto con le immagini, la proiezione di immagini, certamente c'era una componente sonora, soprattutto verbale, non musicale, il cinema, invece, avrà fin da subito una componente musicale, anche verbale, ma più musicale che verbale, ha, dicevo, però, fin da subito questa componente, che rende lo spettacolo, la lanterna magica, uno spettacolo, appunto, multimediale complesso. Lo spazio, lo vedete, lo spazio descritto da lanterna magica, è uno spazio molto simile, anche questo teniamo la mente, perché poi, alla fine della nostra storia, troveremo due idee di cinema in conflitto, e una, quella dei Lumiere, arriverà da qui, è, dicevo, uno spazio già abbastanza simile a quello del cinema, un proiettore, appunto, questo, alimentato da una luce, da una candela, il principio è quella camera oscura, un proiettato, scusate, alimentato da una candela, dentro c'è, vedete, un obiettivo, ci sono dei vetrini, questo è l'alloggiamento dei vetrini, che vengono mossi, a volte, non sto a farvi la storia della lanterna magica, se vi interessa, trovate moltissime immagini, appunto, anche online, libri, eccetera, è una storia estremamente affascinante, perché poi molto presto i vetrini cominciano ad essere anche vetrini che si possono sovrapporre, quindi, anziché successioni di immagini fisse, diciamo, di quadri diventano esperimenti di immagini che si animano, per esempio, paesaggi che passano dal giorno alla notte, oppure vulcani che eruttano, eccetera, però l'aspetto più interessante dell'alterna magica, per quanto dei vulcani che eruttano, è questo, cioè, da un lato sono divertimenti borghesi, oppure per bambini, oppure divertimenti di piazza, è come il cinema assolutamente trasversale, e i vetrini raccontano storie diversissime, alcuni sono vetrini che esplorano, per esempio, paesi più o meno esotici, oppure fatti storici, personaggi illustri, battaglie particolarmente significative, oppure favole, leggende, storie ridotte, appunto, a pochi fotogrammi, diremmo noi oggi, in successione, oppure, come vedete in questa immagine, l'alterna magica viene anche precocemente utilizzata per la formazione, a volte, appunto, dei rampolli, anche a corte viene utilizzata, utilizzata piuttosto di presto, appunto, per eredi, comunque, per figli, appunto, della monarchia europea, dell'aristocrazia europea, oppure, all'interno, appunto, di salotti borghesi, dove le famiglie si riuniscono, per ascoltare piccole lezioni audiovisive, in questo caso, di geografia, oppure, appunto, anche all'interno di classi, in cui l'insegnante utilizza la proiezione luminosa, la lanterna magica, che in questo caso ha molto poco di magico, se ci pensate, per, appunto, istruire la classe su alcune componenti, in questo caso, legate appunto, tipo, legate alla biologia. Questo aspetto, la trasversalità degli oggetti, dei soggetti, delle materie, e soprattutto la trasversalità, la dimensione assolutamente variabile degli spazi di esperienza, la lanterna magica, appunto, da quelli fiera ioli, a quelli borghesi, a quelli aristocratici, dalle piazze dove ci si diverte, alle aule dove si impara, fa della lanterna magica, non solo appunto, uno strumento estremamente d'utile, perché poi appunto era una scatola, era questa cosina qua, che veniva portata in giro, e poteva essere, come vi dicevo, già dall'ottocento posseduta, perché costava poco, e bastava ogni tanto comprare dei vetrini per divertirsi con nuove, non solo, dicevo, ne fa uno strumento diffusissimo, è stato davvero il grande, il primo grande esempio, prima del cena di esperanto visuale, della storia dell'umanità, ma porta, e per noi questo è particolarmente importante, porta a contatto con un tipo di esperienza visiva, audiovisiva completamente nuovo, un pubblico estremamente ampio. Ricordatevi, forse non lo dicevamo anche la volta scorsa, ma occorre sempre ricordarlo, che ci sono state epoche, questa già un po' meno, questa appunto, l'ottocento, anzi, come dicevamo, poi è il luogo di un'esplosione di dispositivi ottici, di un desiderio appunto, di esperienze visive completamente nuove, ma lo sappiamo benissimo, ci sono epoche, anche immediatamente precedenti, in cui guardare immagini, e come nel caso dell'alterna magica, partecipare a spettacoli visivi, non è un'esperienza, come facciamo noi oggi, quotidiana, comune, consueta, ormai del tutto banale, ma è appunto un'esperienza in qualche modo sempre eccezionale. Allora, dentro una storia che non è banalmente una storia lineare di apparecchi che si succedono fino, nel nostro caso, all'avvento del cinema, ma dentro una storia più complessa, che è quella, come dicevamo, appunto, di corpi che guardano, gli osservatori che, appunto, di volta in volta imparano ad adeguarsi ad ambienti diversi, a interagire con ambienti diversi, dentro questa storia, storia stratificata, complessa, lo dicevamo, in cui entrano in gioco determinazioni diversissime, il ruolo della lanterna magica è un ruolo cruciale, anche perché, appunto, un dispositivo tutto sommato elementare che deriva da lanterna magica, una luce, un obiettivo, una proiezione luminosa che, appunto, viene ingrandita, un dispositivo tutto sommato banale, semplice, diventa, però, appunto, un dispositivo che a poco a poco rende l'esperienza, appunto, del rapporto con le immagini in uno spazio complesso e collettivo, anche questo aspetto tenetelo a mente perché è importante, un'esperienza via via sempre più consueta, o se non consueta, quantomeno, sempre meno eccezionale. Il bisogno, il desiderio di immagini, di spettacoli visivi dell'Ottocento è anche figlio, soprattutto nella seconda metà del Settecento di una progressiva diffusione davvero capillare della lanterna magica all'interno, appunto, della società e, ripeto, di quasi tutti gli strati sociali senza grandi differenze. Questa, per ora, guardatela e basta, poi ci torniamo su, è una retroproiezione, la troveremo tra poco nell'ambito della fantasmagoria. Aggiungo solo un ultimo aspetto, poi lo riprendiamo comunque nell'ambito della fantasmagoria, lo si vede bene in questa immagine. Per noi è normale assistere a spettacoli visivi al buio e guardate che anche questo fattore è un fattore cruciale. Considerate che il primo vero spettacolo consumato al buio, spettacolo visivo, audiovisivo, è proprio il cinema perché a teatro, forse lo sapete, le luci restavano accese, la platea era illuminata. Questa idea di calarci nell'oscurità per assistere a uno spettacolo che sta di fronte a noi, erigendo tra l'altro in modo molto più esplicito anche dal punto di vista illuministico una quarta parete, quindi appunto la sottrazione dell'ombra, la presenza della luce, è un'invenzione relativamente recente, essenzialmente di fine ottocento. l'unico altro divertimento diciamo così che pone questa questione e lo vedremo tra poco è la fantasmagoria, sulla fantasmagoria facciamo un piccolo pit stop perché appunto è lo spettacolo più affascinante e complesso ma anche appunto che precorre alcune questioni che non sono, ripeto, di pure e semplice archeologia dei media ma di esperienze appunto di sguardo. come vedete in queste immagini ovviamente l'antenna magica aveva bisogno di un certo tasso di oscurità perché appunto erano immagini luminose però in molti altri contesti come questo ma lo si vede anche qua tutto sommato l'oscurità è relativa in altri contesti invece viene resa esplicita sicuramente nell'ambito questa è di fatto una fantasmagoria nell'ambito fantasmagorico però l'anterna magica questo non va appunto trascurato è anche un tipo di esperienza che comincia a collocare questo soggetto il nostro soggetto cioè lo soggetto osservatore in uno spazio che è uno spazio dialettico ma anche uno spazio negativo nel senso appunto lo stare di fronte alle immagini secondo appunto un osservare appunto un adeguarsi a un certo tipo di spettacolo che è appunto un'esperienza di tipo relativamente nuovo vi faccio vedere che è un po' l'alternativa non si vede meglio qua l'alternativa alla lanterna magica ma non è mai stata davvero un'alternativa perché si perde non è che si perde però diciamo che è un'esperienza estremamente più complessa costosa costosa macchinosa letteralmente verrebbe da dire è il cosiddetto la scatola magico mondo nuovo questo appunto questo dipinto del Gian Domenico del figlio di Tiepolo il mondo nuovo è emblematico vedete quasi non si vede qui c'è una specie di casotta di legno di legno e attorno lo si vede qua questa è una versione più piccola ma ce ne sono vedete anche quasi di portatili questo è conservato al museo del cinema di Torino mondo nuovo quindi a scalare può essere una scatola per la visione diciamo singola come questa una scatola con 3-4 accessi oppure appunto un edificio un po' più complesso in cui gli spioncini in cui porre l'occhio sono invece molti di più qual è il principio a noi interessa interessa farlo vedere appunto per come viene posto in modo assolutamente opposto rispetto alla lanterna magica l'osservatore il corpo dell'osservatore è però un'idea che Edison lo vedremo erediterà i due modelli Edison Lumière del cinema sono uno figlio della lanterna magica e uno quello di Edison figlio appunto del mondo nuovo il principio è appunto porre l'occhio e di fatto quindi astrarsi completamente la dimensione corporea ma anche la dimensione collettiva quindi letteralmente fare eccezione della propria complessità corporea dello spazio in cui si è per appunto godere di uno spettacolo in qualche modo però segreto privato appunto c'è tutto un principio certo cambia posizionamento del corpo ma cambia proprio il tipo di esperienza cosa c'è dentro il mondo nuovo dentro il mondo nuovo ci sono spettacoli tutto sommato non diversi da lanterna magica variazione di immagini piccoli effetti luminosi fatti appunto con delle candele variazioni per esempio appunto dal giorno alla notte eccetera fatti però appunto all'interno di appunto mondo nuovo scatole magiche di spazi appunto in cui noi non partecipiamo di una visione collettiva ma siamo anzi invitati a spiare capite che anche il tipo di implicazione il tipo di esperienza il tipo di relazione con l'immagine è un tipo di esperienza completamente diversa più simile al cosiddetto peep show per intenderci poi ci arriviamo che non invece all'esperienza collettiva però tenetele a mente queste due cose perché appunto più che una storia dei dispositivi che per buona parte della storia del cinema è stata raccontata come appunto una successione di migliorie per arrivare al cinema in realtà una delle questioni poste all'archeologia dei media o comunque da studi di cultura visuale quindi non tanto storicistici ma interessati appunto a farsi carico di una dimensione complessa dell'esperienza visiva ha posto semmai il problema appunto del tipo di esperienza di come l'osservatore viene implicato sollecitato stimolato provocato in alcuni casi piuttosto che appunto di come i diversi dispositivi funzionano certo noi non dobbiamo dimenticare quello che vi ricordavo all'inizio citando Credi e poi ci arriviamo che appunto l'osservatore è invitato ad integrarsi più o meno molto poco nella camera oscura moltissimo per esempio in una fantasmagoria o in un divertimento poi vediamo fenachistoscopio è invitato ad integrarsi ai meccanismi quindi il suo corpo è sollecitato appunto da un funzionamento meccanico e quindi certamente il funzionamento del dispositivo funzionamento proprio letterale fisico ottico materiale meccanico dispositivi è fondamentale è fondamentale conoscerlo è fondamentale appunto collocare questi dispositivi lungo una storia che è quella dei dispositivi del funzionamento dei dispositivi al tempo stesso non possiamo appunto obliterare completamente anzi per quanto ci riguarda invece la dimensione fondamentale obliterare completamente come il corpo viene messo in gioco e provocato eventualmente da questi dispositivi tra l'altro il dipinto di Tiepolo è un dipinto particolarmente emblematico perché vedete nega in modo molto intelligente a noi spettatori del quadro non solo nega ovviamente il contenuto del mondo nuovo ma ci nega anche il volto di spettatori perché questo volto è completamente assorbito dentro questa scatola magica appunto oscura vedete vabbè questi sono altri esempi private c'è anche questo qua vedete a volte il mondo nuovo a differenza dell'alterna magica era meno audiovisivo senso meno audio e quasi sicuramente visivo perché capite bene che in questo caso il ruolo del narratore imbonitore è un ruolo fatalmente negato dal tipo appunto di esperienza singolare vi faccio vedere ancora un'altra cosa lungo questa storia che però comincio ad accorciare perché il tempo io con questa modalità di visione non vi vedo però se avete delle cose da chiedermi perché non c'è una modalità di visualizzazione no se avete delle cose da chiedermi interrompetemi perché appunto guardo il powerpoint o guardo voi ma l'anterna magica la conoscevate l'avevate mai vista sapevate un po' la sua storia sì però in modo che si scrive sì non che io l'abbia fatta troppo approfondita tanto se non siete mai andati fate un giro al museo del cinema di Torino la parte più bella del museo del cinema di Torino è proprio questa la parte sul pre cinema la parte secondaria quella sul cinema è più spettacolare più come dire effetto wow per turisti mediamente colti invece la prima parte che è la collezione storica appunto della prolo è straordinaria credo la più importante collezione al mondo e se non al mondo certamente una delle più importanti proprio di queste apparecchiature tutto il pre cinema ovviamente non c'è il panorama adesso lo vediamo perché i panorami sono stati tutti distrutti erano strutture effimere di legno e vabbè però per esempio il mondo nuovo la lanterna magica ce ne sono infiniti esempi per esempio le tipologie di vetrini che sono bellissimi perché i primi erano dipinti a mano poi ad un certo punto questi vetrini cominciano ad essere inevitabilmente stampati anche appunto per favorire la commercializzazione di questo oggetto però sono straordinari appunto i temi che vengono affrontati le sequenze come vengono strutturate appunto o lezioni di biologia e storie oppure fa cappuccetto rosso ridotto per la lanterna e poi appunto l'aspetto visivo sono bellissimi i vetrini per lanterna oltre le lanterne le lanterne ci sono infiniti esempi da quelli più complessi il legno i primi che però erano anche soggetti a volte si bruciavano a quelli poi di latta diciamo così di metallo gli ultimissimi approfittano sono alimentati addirittura elettricità perché quando arriva l'elettricità allora non si usa più la candela ma si usa appunto l'elettricità poi però arriva il cinema come dicevo e spazza via tutto va bene torno sul powerpoint vi faccio vedere una delle cose più affascinanti però adesso vi leggo anche una piccola cosa lungo questa storia che è il panorama il panorama forse questo non lo avete sentito parlare questo il signore che l'ha inventato è questo in inglese siamo un po' prima dalla storia infatti nel libro di Crary non ci si occupa del panorama che viene considerato secondo me a torto un'invenzione ancora troppo figlia per certi versi della scusate della della camera oscura di quel tipo di posizionamento comunque il signore per quanto ci riguarda appunto dentro una storia dello sguardo ma come dicevamo all'inizio appunto di sguardi corpi e immagini questa triangolazione di questa relazione complessa è uno degli esperimenti più affascinati in assoluto perché intanto il nome non lo chiamiamo panorama e di fatto vedete panorama è stato poi anche il termine utilizzato però il suo inventore questo signore inglese Robert Barker lo chiama la natura a colpo d'occhio questo è il vero nome del panorama quando lo brevetta lo chiama così perché qui vi faccio vedere qui vi ho messo uno dei più famosi il panorama di Edimburgo da Carlton Hills Carlton Hills è una collina sopra Edimburgo è stata una collina molto famosa perché sede appunto di monumenti nazionali eccetera allora due questioni il panorama adesso ve lo racconto meglio ma perché lo chiama la natura a colpo d'occhio intanto vabbè perché preferibilmente i soggetti dei panorami sono appunto o visioni di città o visioni di battaglie quella di Waterloo fu una delle più famose dei più famosi panorami però per lo più appunto visioni panoramiche per l'appunto di città ma l'altro aspetto e spessissimo questi panorami vedete lo specificano anche questo London from the roof Albion Mills Albion Mills è un mille appunto un mulino uno dei primissimi mulini alimentati a vapore quindi meccanici uno dei simboli della rivoluzione industriale londinese è stato subruciato alla fine appunto poco dopo alla fine del Settecento e qui Robert Barker anche qui ci tiene a puntualizzare che la vista che sta ponendo di Londra è presa da lì allora quindi due questioni subito per noi si impongono non solo la visione panoramica e il colpo d'occhio la natura eccetera ma il punto di vista perché secondo me Creris sbaglia a non dare il giusto valore al panorama perché è esattamente la negazione del punto di vista in qualche modo inerte naturalistico nel senso più vero del termine postulato dalla prospettiva e poi pensate appunto a tutta la sua applicazione dell'ambito della pittura moderna viceversa il panorama anticipando alcune delle cose che avrebbe fatto poi il cinema pone come questione non solo appunto la visione panoramica che non è una visione antropomorfa l'aspetto affascinante del panorama adesso lo vediamo è appunto porre lo spettatore dentro un modo di guardare a colpo d'occhio 360 gradi che non gli appartiene ma anche quello del punto di vista che non è solo ovviamente strategico perché così dall'alto io riesco a dare appunto a colpo d'occhio una visione panoramica di ciò che ho di fronte ma anche perché appunto pongo come problematico il punto di vista lo spettatore è portato a pensarsi e quindi appunto certamente la dimensione immersiva ma anche come dicevamo evasiva l'evadere dal proprio corpo statico posto in quel momento è invitato in qualche modo a vivere in un punto di vista ben preciso specifico che non è quello del suo corpo in quel momento il suo corpo è sollecitato a vivere un'esperienza quasi di sdoppiamento fra la sua posizione nello spazio della rotonda del panorama e la posizione ottica che il panorama sollecita in lui come sono fatti i panorami vi dicevo sono guardate che belli sono dall'esterno sono relativamente belli sono delle rotonde vengono chiamate anche rotonde di legno effimere vi dicevo perché in realtà poi una volta che venivano montate stavano lì anche decenni però effimere perché poi appunto quando questi divertimenti sono passati di moda i panorami non sono stati riconvertiti a volte poi bruciavano e va bene quindi di fatto non abbiamo dei panorami che si sono salvati venivano piazzati appunto i luoghi strategici e restavano lì gli spettacoli cambiavano con una certa frequenza non altissima perché capite bene queste sono tele dipinte per cui potete facciare stiamo parlando di 2000 metri quadrati in media di superficie dipinta perché come vedete lo spettacolo guardate dove sono i spettatori vedete sono qua attenzione sono questi vabbè vi fa vedere come entravano sono qua vedete dove sono posti sono letteralmente immersi non sono qui in basso ma sono una posizione per cui appunto sono idealmente circondati da ciò che il panorama rappresenta il panorama è stato appunto da questo punto di vista uno dei primi forse il più importante dispositivo immersivo della storia dell'umanità della visualità proprio perché vedete Barker lo aveva progettato per fare in modo che gli spettatori entrassero attraverso appunto scale o percorsi laterali entrassero direttamente al centro non ci fosse diciamo così una fase intermedia guardate questo aspetto non è secondario poi lo ritroveremo nella fantasmagoria non solo che tipo di esperienza io faccio e va bene ma anche come accedo a quell'esperienza uno degli aspetti spettacolari pensati da Barker così come lo vedremo da Robertson nella fantasmagoria è l'accesso oggi noi diremmo l'ingresso dello spettatore nella finzione questo ingresso un ingresso anche questo attentamente progettato in modo da essere in qualche modo immediato che ponga e quindi con un effetto appunto straniante per certi versi che ponga immediatamente lo spettatore a contatto con un'esperienza appunto non abituale l'aspetto spettacolare del panorama è anche questa assenza diciamo così di mediazione di preparazione non c'è un'anticamera si entra e si è dentro questo spettacolo appunto panoramico poi i panorami erano come sempre illuminati dall'alto potevano anche a volte si poteva giocare con effetti di luce ma in realtà raramente questo lo farà piuttosto un altro spettacolo molto famoso in quest'epoca che è il Diorama poi ci arriviamo l'aspetto dicevo affascinante è il panorama vi leggo rapidamente una cosa ecco una prova di illuminazione allora vi leggo una cosa da questo libro non so se lo vedete questo è un libro fondamentale di Mannoni è un autore francese della grande arte e la luce dell'home archeologia del cinema questo è proprio un libro come oggi forse ma non è che non si scriverebbe più è uno il libro di riferimento per studiare queste cose perché Mannoni ha fatto una ricerca incredibile d'archivio quindi non solo ha ricostruito il funzionamento eccetera ma tutti i brevetti poi vabbè qui ovviamente c'è una storia estremamente semplificata ma di panorami così come di lanterne magiche ci sono infinite versioni che sono infinite versioni non solo perché ogni paese ha il suo panorama in Francia c'è il suo panorama in Inghilterra gli inventori sono diversi ma perché ogni brevetto ha delle piccole differenze perché c'è una concorrenza fra diverse invenzioni eccetera eccetera quindi è una storia estremamente complessa che non in un libro vedete anche che è piuttosto ponderoso sono 560 pagine racconta dettagliatamente però dicevo il libro di Mannoni ovviamente per quanto ci riguarda è un libro a cui manca appunto tutto un pezzo che è una 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 di fatto una collocazione è una storia culturale di queste invenzioni è una storia secca straordinariamente ricca di dettagli però è una storia secca di dispositivi ripeto per noi è una fonte primaria per i studi di cultura visuale questo libro è una fonte primaria preziosissima ma poco di più poi certo ogni tanto ci sono documenti legati per esempio recensioni d'epoca quindi appunto come venivano raccontati esperiti percepiti ma anche caratterizzati dal punto di vista culturale questi spettacoli alcuni come la fantasmogoria creano anche qualche problema di tipo sociale vengono fortemente scoraggiati ma questo vale anche per il cinema il fatto a proposito di oscurità che il cinema sprofondi gli spettatori nel buio all'inizio della sua storia pone il cinema tra divertimenti sconsigliatissimi per esempio dalla chiesa la chiesa invitava esplicitamente gli spettatori a non andare al cinema soprattutto gli spettatori donna perché appunto l'ambiente scuro del cinema veniva considerato come un ambiente promiscuo in cui appunto poi i corpi erano vicini non c'erano le poltronizze c'erano delle panchette al cinema quindi si era al buio corpi gli uni vicini agli altri sconosciuti potete facilmente intuire che se per noi è del tutto normale all'epoca invece l'ambiente mediale di cui il cinema aveva bisogno per funzionare è un ambiente che appunto è caratterizzato dal punto di vista morale come un ambiente sconveniente quindi dicevo dentro questo libro si trovano anche cronache d'epoca che ci danno un po' ci aiutano ad avere un'idea di come venivano elaborati poi socialmente questi divertimenti quali classi per esempio sociali li consideravano divertimenti legittimi oppure no eccetera eccetera però per il resto una storia appunto essenzialmente una storia di tecnologie che va poi però tutta coordinata del pezzo che manca ma poi sono studiosi come Creri che l'hanno fatto va coordinata appunto a una storia di fatto del pensiero scientifico da un lato ma appunto poi della società delle istituzioni sociali del soggetto eccetera eccetera comunque al di là di tutto questo il panorama vi leggo solo rapidissimamente l'illuminazione viene dall'alto questa breve descrizione l'illuminazione viene dall'alto attraverso un tetto vetrato una semplice apertura l'ingresso del recinto interno vedete deve essere sotterraneo in modo da non distogli l'attenzione del pubblico ciò permette anche come nella fantasmagoria di Robertson poi ci arriviamo di far perdere la nozione della luce allo spettatore che deve percorrere oscuri corridoi prima di arrivare di fronte al quadro circolare intensamente illuminato l'effetto di sorpresa contribuisce molto al successo del panorama Barker prevede inoltre dei ventilatori per far circolare l'area nell'edificio la cosa più difficile resta ovviamente dipingere la tela panoramica questa è una citazione dice il pittore e disegnatore deve mettersi in un dato punto e tracciare correttamente di seguito ogni oggetto che si presenti alla sua vista quando gira in tondo disegno che sarà completo quando si ricollegherà al punto in cui ha cominciato quindi come dire c'è c'è proprio una difficoltà appunto progettuale diciamo così perché è un modo di vedere panoramico che deve però appunto funzionare perché lo spettatore appunto si gira deve avere questa immersione questa sensazione di immersività però questa sottolineatura il passaggio dall'ombra alla luce questo scarto potente questa idea di immergersi è evidente noi oggi appunto questo tipo di esperienza possiamo fare indossiamo un casco in realtà virtuale lo dicevamo all'inizio e noi improvvisamente passiamo da una da una dimensione esistenziale ad un'altra ma questi spettacoli questi scarti oppure ovviamente entriamo al cinema ma le luci si spengono e improvvisamente noi come dire entriamo in un regime non solo luministico ma potete facilmente capirlo di esperienza del corpo e anche appunto di sollecitazione dei sensi diversa al cinema il nostro corpo è tendenzialmente non sollecitato come dire spostato in uno spazio che non è ovviamente inerziale non soltanto perché cognitivamente noi continuiamo a funzionare anzi a pienissimo regime ma perché comunque il nostro corpo continua a vivere del contatto con gli altri delle voci dei rumori degli odori eccetera ma certamente il nostro corpo è spinto in una condizione di maggiore passività rispetto invece a uno spettacolo del panorama che fa esattamente il contrario quindi dal buio alla luce per forzare una specie appunto di rivelazione di partecipazione insieme appunto favorire l'ingresso in una medialità non consueta quindi un po' come appunto le soglie diciamo così che appunto separano due dimensioni in questo caso appunto la dimensione la dimensione appunto consueta rappresentata dal percorso e poi la dimensione del panorama queste soglie questo entrare uscire appunto da mondi spettacolari noi siamo partiti oggi dicendo il concetto di immersione di immersività di immersione in un mondo finzionale un concetto che appunto per lungo tempo è stato un concetto speculativo metaforico una grande metafora mi immergo nella lettura è vero lo dicevo anche prima quando io leggo tendo in qualche modo a chiudere un po' o il più possibile il mondo che mi circonda rumori disturbi eccetera tenerlo il più possibile zittirlo il più possibile per entrare appunto nel libro cioè per come dire narcotizzare alcuni sensi a favore di altri in questi casi e per noi è particolarmente significativo e interessante noi non siamo un semplice lo spettatore l'osservatore è semplicemente posto in una certa posizione al centro del panorama ma al tempo stesso è anche sollecitato a fare quell'esperienza come appunto un'esperienza di alterità puramente propriamente spettacolare e al tempo stesso appunto viene instradato verso una specie di preparazione diciamo così di un certo tipo questo è un panorama vi faccio vedere anche questo ma non è molto diverso di Robert Fulton Robert Fulton tra l'altro è l'inventore del battello a vapore è americano Fulton questo è un aspetto anche su questo non è che abbiamo tanto tempo di insistere però la grande maggioranza di questi signori così come di fatto anche gli inventori del cinema al di là dei Lumière o di Edison però Edison lo sapete Edison è quell'Edison lì della lampadina eccetera ma anche i Lumière erano di fatto dei borghesi scienziati in questo caso tra qualche virgoletta ma che virgolette ma che erano attivi nell'ambito della produzione di materiali per la fotografia eccetera una gran parte di questi signori come Daguerra anche erano quasi sempre appunto per metà artisti spesso per esempio pittori o potevano avere certe abilità pratiche tipo scenografico e teatrale per metà scienziati questo accoppiamento che per noi si è perso quasi completamente nelle storie successive compreso quella della realtà virtuale che è una storia appunto dicevamo in cui ci sono i filosofi che studiano i progettisti che progetto e gli informatici che creano e gli scienziati nei loro complessissimi laboratori che oggi per esempio stanno studiando le lenti a contatto per la realtà virtuale però come dire sono chiaramente dialogano fra di loro e su questo non c'è dubbio però questa congiunzione diciamo così di talenti è un aspetto assolutamente unico di questo secolo quasi tutti tanti tutti gli inventori del cosiddetto precinema Maree Mybridge Platò eccetera tutti questi signori erano in primo luogo scienziati che poi hanno più o meno volontariamente e credendoci più o meno anche partecipato di di una spettacolarizzazione delle loro stesse invenzioni e questo succede anche per i raggi che sono molto divertenti comunque Robert Fulton che è appunto un signore che però inventa anche il battello a vapore però inventa anche questo panorama molto bello ve l'ho portato perché in questa ricostruzione si vede bene che ci sono anche due livelli per cui appunto il panorama considerate che i panorami erano appunto costruzioni complesse costosissime ad un certo punto falliscono anche perché sono troppo costosi quando la moda poi sono tutte mode Balzac li chiamava la moda del rama appunto panorama ciclorama che poi ce ne sono tanti altri di cui non vi faccio vedere nulla ma il panorama è un po' il paradigma poi ce ne sono infiniti lo sferiorama e poi tutti quelli che adesso vedremo la moda del rama appunto sono anche mode per cui poi questi questi complessi marchigenti costosissimi marchigieni poi appunto ce ne escono di scena ma ben prima dell'avvento del Cina anche per la loro difficoltà ecco il diorama è un'altra invenzione su cui vi dico due cose ma perché intanto c'è questo signore qua che conoscete bene che di lì a qualche anno assieme a Nieps quindi appunto alla scusate al al vero inventore della della fotografia la storia di la relazione di Nieps e Daguerre è una storia che non fa molto onore a Daguerre perché Nieps in realtà è il primo che riesce di fatto a fissare delle immagini su lastra e poi Daguerre lo seduce costruisce una una società assieme a lui poi vabbè Nieps muore prematuramente quindi insomma poi per noi l'inventore la fotografia il Daguerre rotipo eccetera il Daguerre però insomma è una storia un po' più complessa ma comunque questo signore assolutamente geniale però anche appunto un attento uomo d'affari assieme a Charles Bouton realizza appunto questa cosa estremamente complessa che è il diorama i diorami erano questo qui si capisce un po' vedete erano delle costruzioni estremamente complesse perché a differenza del panorama questo è il disegno originale sono il disegno originale a differenza del panorama tanto qua vedete un omino che manovra una leva a differenza del panorama dall'esterno il concetto è lo stesso erano delle strutture lì in legno però lo spettacolo del diorama era uno spettacolo complesso in cui appunto le cose si muovevano in genere appunto c'erano delle tele che si spostavano però c'erano anche come si vince da questa sequenza degli effetti luminosi per cui appunto la stessa scena grazie appunto effetti in tipo teatrale cambiava perché il diorama intanto è estremamente complesso e costoso lo stesso da Gerdo dopo una ventina d'anni vabbè a parte perché poi appunto c'è la la fotografia che gli prende a tempo pieno lo impegna a tempo pieno però abbandonerà il diorama anche perché sono spettacoli estremamente complessi costosi ma proprio da gestire che però per quanto ci riguarda dopo la fantasmagoria o comunque in parallelo la fantasmagoria e a differenza del panorama sollecita uno spettatore a un'esperienza decisamente più multimediale perché appunto lo spettatore l'osservatore non è semplicemente posto in un ambiente a 360 gradi in cui appunto può girare su se stesso e godere di un punto di vista a colpo d'occhio sulla vastità dello spazio che lo circonda eccetera ma è appunto posto come in questo caso di fronte a spettacoli diciamo così pre-cinematografici cioè l'elemento della variazione del movimento che è la grande variabile che distingue questi spettacoli nel caso del panorama il movimento è tutto dell'osservatore che non solo si muove ma si muove anche lo potete facilmente intuire tra spazio visione panoramiche e visione dettagli uno degli aspetti più affascinanti dei panorami è che i pittori erano praticamente abili e tutti i dettagli per esempio quando venivano ricostruite delle battaglie realmente combattute oppure delle scene delle visioni appunto di città i dettagli erano puntualmente perfettamente filologicamente corretti allora l'esperienza dell'osservatore era quella appunto di una visione insieme a panoramica e una visione di dettaglio c'era quindi un duplice movimento quello del corpo naturalmente che si muoveva nello spazio ma anche il movimento dello sguardo che appunto aveva questa grande libertà appunto panoramica come quando noi ci troviamo dall'alto sulla tour Eiffel per esempio e guardiamo Parigi allora lì possiamo fare appunto possiamo muoverci nello spazio il nostro sguardo ha grandissime possibilità di movimento nel caso del diorama in realtà lo spettatore è seduto quindi il suo corpo è posto e riportato a una condizione più simile alla lanterna magica però al tempo stesso di fronte a sé partecipa a uno spettacolo mutevole cangiante in cui appunto è anche sonoro mentre il panorama è sonoro nel caso del diorama ci sono anche effetti sonori ma proprio perché questo lo capite facilmente a noi questo interessa particolarmente il senso dell'effetto sonoro è direttamente legato alla variazione spaziale come se il movimento del tempo si portasse inevitabilmente fatalmente un coefficiente di realismo anche sonoro se cambia l'immagine se l'immagine passa appunto dal giorno alla notte oppure dal sereno temporalesco eccetera allora effetti sonori aiutano a suggerire la variazione temporale il tempo la variazione di tempo appunto anche una condizione di tipo uditiva e arriviamo appunto alla fantasmagoria adesso però qui vi leggo una cosa allora allora per la fantasmagoria se vi interessa il tema è uscito questo libro qualche anno fa bellissimo che si chiama scritti sulla fantasmagoria apparizioni curato da Barbara Grespi e Alessandra Violi è un libro fondamentale per gli studi perché è una raccolta di saggi in cui le autrici hanno appunto raccolto e tradotto solo uno di Francesco Casetti è un saggio scritto appositamente per il libro gli altri sono saggi appunto molto famosi sulla fantasmagoria la fantasmagoria tra cui questo di Tom Gunning di cui adesso vi leggo le due cose vi leggo una parte questo qua il succo del discorso secoli di proiezioni d'ombra dalla magia naturale all'avanguardia Tom Gunning tra l'altro è un grande studioso di cinema delle origini a lui si deve un concetto che poi è diventato cruciale negli studi sul cinema cioè il concetto di attrazione che noi usiamo si occupa di cinema usa abitualmente per identificare il funzionamento narrativo di una prima fase del cinema quella cosiddetta anche cinema attrazionale che va grossomodo dal 1895 quindi dalla nascita del cinema fino ai primi anni il primo decennio del novecento poi con gli anni dieci arriva invece un cinema narrativo maturo e quindi l'idea di attrazione in realtà poi è stata recuperata dentro un contesto appunto di analisi del cinema soprattutto per identificare certi meccanismi del cinema contemporaneo comunque a Tom Gunning si deve questo concetto cruciale di cinema delle attrazioni allora vi leggo questa descrizione perché la fantasmagoria tanto ecco questo è lui è l'inventore e etienne Gaspard Robertson in alcuni casi anche Roberts e tra l'altro appunto ha scritto anche un volume in cui appunto descrive ricorda questa invenzione particolarmente cosa vi ho portato ok adesso ve li spiego e la fantasmagoria è stato in assoluto il divertimento chiamiamolo così uno dei più affascinanti uno dei più complessi però per quanto ci riguarda cioè appunto non solo studiosi di CIA ma appunto studiosi di ambienti mediali complessi e soprattutto come ci ha fatto ha cominciato a farci capire il panorama come ambienti mediali in cui si danno delle forme di di scarto rispetto appunto al modo di interagire con le immagini al modo di essere nello spazio al modo appunto di esperire con il corpo non solo con lo sguardo ma con i sensi uno spettacolo audiovisivo la fantasmagoria è stata in assoluto l'attrazione appunto più importante dell'ottocento fine settecento poi si diffonde all'ottocento vi racconto vi leggo questa descrizione dettagliata ma bellissima di come funzionava una fantasmagoria quella proprio di Robertson allora ci si avvicinava all'ingresso della fantasmagoria ah ecco la fantasmagoria qui lo dice considerate che Robertson a dispetto del nome appunto inglese però la fantasmagoria di Robertson viene installata a Parigi fine settecento nel convento dei cappuccini che non esiste più vicino a Place Vendôme e vabbè quindi intanto considerate che l'ambiente era un ambiente appunto quello del convento dei cappuccini che di per sé come dire già introduceva il visitatore a una spazialità appunto non abituale però appunto noi se ricercate online trovate delle ricostruzioni del del monastero ma non c'è più insomma ci si avvicinava all'ingresso della fantasmagoria di Robertson procedendo con cautela oltre i muri cadenti di un convento e camminando tra lapidi di monache decedute dopo aver attraversato la corte dei cappuccini nel crepuscolo serale ovviamente i spettacoli della fantasmagoria erano solo serali e notturni nel crepuscolo serale ed essere entrati nell'ex chiostro si procedeva attraverso un lungo corridoio che Robertson esperto di pittura oltre che di scienza come dicevamo prima questi sono per metà appunto artisti per metà scienziati nonché originariamente ordinato prete che quindi male non fa visto il contesto aveva decorato con dipinti oscuri e fantastici di questo corridoio non abbiamo tracce non ci sono neppure stampe dell'epoca però immaginatevi appunto che l'inizio di questa avventura spettacolare è questo alla fine del corridoio si giungeva al primo spazio espositivo e questo che state vedendo il Salon de Physique il Salone di Fisica che era riservato a esperimenti e dispositivi scientifici vedete qui spesso è lo stesso Robertson che compie degli esperimenti ci sono appese delle cose eccetera va bene qui Robertson mostrava il potere dell'elettricità appena scoperto il cosiddetto appunto galvanismo facendo in modo che delle scintille luminose balzassero davanti agli occhi degli spettatori le attrazioni della stanza includevano dispositivi ottici e sonori una grande varietà di specchi deformanti peep show che rivelavano quadri in miniatura di paesaggi familiari i mondi nuovi insomma un ventriloco in grado di diffondere la propria voce in ogni angolo dell'ambiente e in anni più recenti il mistero della donna invisibile una voce apparentemente disincarnata che rispondeva alle domande dei visitatori ed eccola qua la donna invisibile vediamo al fondo di questa galleria uno scrigno di vetro sospeso questo che state vedendo è totalmente isolato dall'interno emerge la voce di una giovane donna invisibile che risponde a tutte le domande che le vengono rivolte sospira soffia sulla mano di chi le avvicina ed escribe gli oggetti che le vengono mostrati questo è il il trucco come vedete lei era sopra e quindi poteva vedere per quello sentiva e vedeva e quindi poteva rispondere alle alle domande rendendo tutto particolarmente fantasmatico però questa è una delle tante attrazioni cominciate a capirle a capirlo in cui non solo e questo per noi è fondamentale anche la natura diciamo così bifronte di figure come Robertson metà artista è un po' mago metà scienziato si esercita perfettamente quindi nello stesso spazio nel salon de physique c'è l'elettricità è un trucco volgare ma appunto assolutamente esoterico come la voce di una donna appunto questa donna fantasma ma cominciate anche a capire ed è uno degli aspetti più affascinanti la fantasmagoria un aspetto che per noi è cruciale per chi si occupa di immagini cioè che la fantasmagoria più di ogni altro spettacolo che abbiamo finora toccato panorama lanterna magica eccetera è uno spazio e adesso vedremo poi lo spettacolo centrale uno spazio in cui si celebra la dialettica tra presenza e assenza realtà e immagini apparizione e sparizione cioè si pone per la prima volta in modo complesso in un ambiente adesso vediamo sonoro visivo complesso ma anche dal punto di vista proprio esperienziare il fumo gli odori dell'incense eccetera si pone il problema dell'emergenza delle immagini come luogo appunto di presenza e assenza e insieme appunto di manifestazione realistica e al tempo stesso fantasmatica della realtà per esempio nella fantasmagoria venivano abitualmente fatti vivere personaggi storici come Robert Spiero Danton morti durante la rivoluzione poco prima va bene adesso ci arriviamo quindi dimostrazioni come queste però appunto anche il galvanismo nelle sue associazioni eccetera presentavano la scienza come una sequenza di prodigie sorprese mentre le diverse apparecchiature ottiche acustiche disseminate lungo la stanza erano progettate per confondere e disorientare i sensi al fine di provare come gli esseri umani potessero essere indotti a dubitare della realtà di quello che vedevano o sentivano la fantasmagoria è veramente una manipolazione del corpo dell'osservatore che insieme all'elemento fondamentale dell'ingranaggio è sollecitato appunto dalla luce dal fumo dagli odori è costantemente incluso questo è fondamentale la fantasmagoria è costantemente incluso come meccanismo fondamentale plasmato trasformato e spinto a sentire o a vedere secondo modalità appunto inedite o comunque appunto che scarto rispetto all'esperienza diurna fino però a dubitare appunto fino a farlo dubitare dello statuto di ciò che vede e sente la manipolazione del corpo che ripeto la realtà virtuale oggi porta alle estreme conseguenze fino a cancellarlo completamente a farlo diventare una specie di protesi o l'avatar per cui appunto ci avatarizziamo per come evadere completamente la nostra esperienza corporea in questo caso il corpo viene manipolato come sostrato sensibile quindi reso attivo agentivo in rapporto all'esperienza spettacolare ma creando appunto uno scarto di tipo esperienziale e veredittivo per cui effettivamente il corpo è spinto a non sapere più o non capire più precisamente a che cosa sta assistendo considerate che per noi oggi la fantasmoveria sarebbe divertente o poco più all'epoca era normale che le donne svenissero che gli uomini cercassero di scacciare i fantasmi erano di nuovo cerchiamo sempre di calare le cose nel contesto anche culturale e visuale dell'epoca questi spettacoli che incidevano proprio sul sensorio per usare un termine caro a Benjamin c'è un sensorio non allenato come è il nostro al rapporto con le immagini ed ambienti mediali complessi incidevano su quel sensore in modo profondissimo così la fantasmagoria si è sviluppata letteralmente sul confine tra scienza e superstizione fra illuminismo e terrore questo è fondamentale lo studio di Gunning è particolarmente interessante perché a differenza appunto di Manonì Gunning contiene sempre sott'occhio il fatto che tutta questa roba qua succede appunto tra l'illuminismo e la rivoluzione francese quindi come dire fra la razionalizzazione estreme e la fine ipotetica però poi con l'ottocento della rivoluzione industriale molto più concreta di una certa epoca dell'umanità e però anche un'epoca con la rivoluzione francese siamo a Parigi ve lo ricordo appunto in cui cadono le teste c'è un regime del terrore eccetera eccetera in cui poi l'illuminismo illumina però anche nel senso che va in quella direzione lì il grande emblema della ghigliottina il raduno di fantasmi di Robertson avveniva al di là di un'enorme porta arcaica coperta di misteriosi geroglifici che univa Salon de Physique quindi questo alla sala principale dello spettacolo di fantasmagoria questa la dimostrazione scientifica che aveva luogo in questa anticamera serviva a convincere il pubblico che alla fine del diciottesimo secolo l'umanità stava per fare il suo ingresso in un mirabile mondo nuovo Brave New World imbarcando su un nuovo cammino di progresso scientifico ed eccoci un segnale acustico le note spettrali ve lo portate l'armonica bicchieri io l'armonica bicchieri non l'avevo mai vista e quindi volevo condividere con voi l'armonica bicchieri che è un oggetto un po' curioso poi passato rapidamente di moda però appunto Robertson che era un uomo praticamente intelligente un grande uomo di spettacolo usava l'armonica bicchieri e che sottolineava il rumore l'inizio di questo passaggio dal razionalistico al Salon de Physique al misterioso dalla realtà appunto della sala principale alla sala della fantasmagoria oggi quasi dimenticato lo strano suono di questo strumento musicale appena inventato affascinava i compositori e il pubblico di fine settecento inizio ottocento composta lo vedete da una sequenza di calotte di vetro di diversa intonazione che venivano sfregate condite e inumidite in acqua come facciamo a volte con i bicchieri l'armonica bicchieri produceva una musica che a molti sembrava eterea angelica generalmente gli storici della musica attribuiscono graduale perdita di popolarità dello strumento alla credenza che i suoi toni avessero un effetto negativo sui nervi causando il deterioramento della mente e altri gravi problemi di salute e questo a noi piace particolarmente visto che Robertson capisce che c'è qualcosa di sinistro nei suoi di questo strumento per Robertson invece l'associazione più importante risiedeva molto probabilmente nell'uso che Mesmer e qui evochiamo una grande figura che è in qualche modo il papà di tutti loro Mesmer aveva fatto dell'armonia celeste prodotta dall'armonica bicchieri Mesmer lo sapete quello del mesmerismo quindi appunto uno dei primi gravi 700 gli studiosi appunto di semplifico un po' di arte medianica o comunque di effetti appunto ha di nuovo metà fra scienza e magia perché poi il confine appunto fra scienza e magia scienza e spettacolo è sottilissimo Mesmer resta un po' poi c'è anche un altro signore Philip Stahl Philip Stahl che lavora lui in realtà è francese ma poi con le sue fantasmagorie si muove fuori dalla Francia che è un altro adepto appunto di Mesmer però appunto Robertson trae l'armonica bicchieri proprio poi gli piace questo suono evidentemente sinistro angelico etereo sembrano voci che cantano voci appunto angeliche però forse demonia che visto il contesto mentre il pubblico prendeva posto nella sala principale eccoci arrivati calavano prima l'oscurità e poi il silenzio il buio all'inizio un'unica lampada sospesa al soffitto illuminava debolmente la stanza coperta da tende scure le tende scure non mancano mai una coltre lugubre interrotta solo dai teschi sbiancati li vedete qua sono dei teschi appoggiati e dalle maschere appese alle pareti maschere antiche le conversazioni iniziate nella sala adiacente sala de physique si interrompevano improvvisamente gli spettatori osservavano quello che un commentatore ha definito un religioso silenzio quando l'unica debole fonte di luce si smorzava immergendo il pubblico nel buio il silenzio era pervaso da effetti acustici che imitavano la pioggia il tuono i rintocchi delle campane e il ritorno dell'armonica bicchieri i sensi già stimolati e confusi dalle illusioni del salon de physique l'immaginazione colpita dal convento abbandonato e dalle sue associazioni dovevano ora confrontarsi con una tela vuota un nero denso di aspettative e suspense la fantasmagoria si differenziava principalmente dai tradizionali spettacoli e la lanterna magica perché allestimento veniva nascosto dal pubblico questo è fondamentale lo abbiamo visto in passato la lanterna magica si vedeva l'anternista era lì il principio fondamentale della fantasmagoria è nascondere la prima abbiamo visto un esempio si vede qua vedete dov'è il lanternista qua sono retroproiezioni non solo attenzione sono retroproiezioni vabbè posso anche vi leggo ancora un pezzettino però è tardi non sono retroproiezioni ma venivano effettuate su schermi impalpabili per esempio garze ricoperte di cera oppure per noi è ancora più interessante ecco vi ho riproposto questa in alcuni casi vedete queste sono immagini che venivano appunto luci sull'anternetro proiezioni che però venivano gli schermi erano stanzialmente il fumo sapete che non apriamo il capitolo sul concetto di schermo però gli schermi sono anche appunto effimeri e mobili il fumo in questo caso fungeva da schermo allora la retroproiezione non solo era nascosta la lanterna era nascosta era negata allo spettatore ma appunto approfittava anche del fumo per creare degli effetti di apparizione robertson ma poi lo fa di più philip star fa anche un'altra cosa estremamente inquietante la lanterna posta dietro lo schermo ad un certo punto viene fatta muovere quasi un antisignalo del carrello cinematografico su rotaie e quindi cosa succede che quell'immagine che già non si capisce da dove viene perché non c'è uno schermo si avvicina e si allontana e quindi questi fantasmi oltre a ondeggiare appunto nel fumo nello spazio a un certo punto sembra anche che cadrano contro gli spettatori di qui li vedete e questi signori le signore svengono gridano oppure vedete gli uomini più coraggiosamente cercano di scacciare queste figure che si muovono e avanzano vabbè posso anche però è questo importante la fantasmagoria ha creato le sue illusioni principalmente grazie all'occultamento degli strumenti di proiezione in questo modo ha modernizzato la lunga tradizione degli spettacoli di magia che grazie allo sviluppo di nuovi trucchi ottici creavano l'impressione di eventi miracolosi nascondendo alla vista i meccanismi in qualità di illusione lavorava direttamente sulle persone sedute tra il pubblico limitando la loro prospettiva manipolando la loro percezione di nuovo con il blocco delle informazioni sensibili o la sovrastimolazione dei sensi questo aspetto è fondamentale non c'è più lo schermo non c'è più un dispositivo razionale il corpo diventa lo schermo ipersollecitato da immagini che appunto emergono nello spazio circostante e si incirano direttamente sul corpo dello spettatore la rimozione la completa obliterazione dello spazio del trucco e cioè del meccanismo è qualcosa che per noi è abbastanza abituale pensate agli ologrammi che oggi sono passati di moda perché pare che sono molto costosi ma poi appunto ce ne sono la realtà aumentata e la realtà virtuale però appunto se voi fate esperienze non solamente in realtà virtuale ma anche in realtà aumentata non c'è più nessun tipo di filtro tecnologico per noi appunto le immagini prendono vita nello spazio senza bisogno appunto di anche il cinema in un certo senso lo fa perché ha nascosto rispetto alla lanterna il proiettore che poi oggi non c'è anche più alle spalle lo spettatore e lo schermo adesso poi lo vediamo nel capitolo finale di questa breve lezione però adesso mi do anche un po' una mossa vedremo anche che lo schermo a sua volta è uno spazio via via negato nella storia del cinema però certamente la fantasmagoria su cui vorrei dirvi ancora tante cose ma mi fermo qua è uno degli spettacoli più interessanti da questo punto di vista questa illustrazione vedete la fantasmagoria non si assiste si è avvolti e coinvolti da fantasmi oppure morti che tornano robe spiero oppure scheletri eccetera questa questione nella storia dell'immersione dello spettatore nella finzione la fantasmagoria è proprio più ancora del panorama e in attesa del cinema che però farà un'operazione diversa appunto rispetto al corpo dell'osservatore la fantasmagoria è proprio l'attrazione non a caso appunto è stata l'attrazione più discussa studiata commentata e quella più affascinante proprio perché appunto ed è quella che oggi viene più spesso recuperata nell'ambito di studi sulla realtà virtuale perché appunto crea per il corpo una condizione di tipo immersiva ma naturalmente per quanto ci riguarda per quanto ci riguarda per quanto ci riguarda rispetto alla realtà virtuale c'è una grande appunto e fondamentale differenza che però per noi è fondamentale davvero per chi si è aveva cultura visuale cioè che il corpo nella realtà virtuale è sollecitato a funzionare secondo un meccanismo quasi schizofrenico viene negato noi smettiamo di avere il nostro corpo indossiamo un altro e al tempo stesso noi siamo portati a sperimentare come il famosissimo esperimento appunto della trave per cui appunto in realtà virtuale io vedo sotto di me una trave sospesa nel vuoto e quindi il mio corpo reale è sollecitato dal corpo virtuale a perdere completamente contatto con la realtà e quindi completamente o a essere negato o a essere ingannato cheating physics su questo dico una cosa mentre invece la fantasmagoria è il corpo come dicevamo diventa letteralmente la carta assorbente lo schermo di riferimento cheating physics ricordate questa espressione è di che era digital cinema di questo signore Stephen Prince ha scritto anche un libro molto bello sul concetto di realismo nel cinema contemporaneo però questa espressione che gli studiosi in realtà virtuale secondo me usano poco ma dovrebbe usare di più cheating physics cioè ingannare la fisica è interessante perché appunto la realtà virtuale funziona in larga parte rispetto al nostro corpo su un principio di credere al nostro corpo di essere in un altro posto mente rispetto al nostro non solo alla fisicalità ma proprio anche alla fisica del nostro corpo per esempio la forza di gravità l'esempio della trave è emblematico il nostro corpo è ingannato dall'esperienza visuale e perde completamente il riferimento rispetto alla propria appunto fisicalità di questa storia ovviamente bisognerebbe anche aggiungere tantissime altre cose tra cui per esempio perché vengono usate c'è anche Madame Tussauds il caso di Madame Tussauds che tutti voi conoscete appunto è un caso interessantissimo intanto perché si ritiene che Madame Tussauds usasse tra l'altro le teste dei ghigliottinati per i suoi calchi di cera e vabbè queste sono immagini d'epoca appunto delle prime esposizioni di Madame Tussauds perché Madame Tussauds poi collabora tra le altre cose con Roberts adesso ci sono degli incroci interessanti di nuovo appunto fra scienze e spettacolo ma lasciamo prima di Madame Tussauds vi faccio vedere rapidissimamente una galleria si mi racconta che l'ha fatta un po' lunga beh tutto questo e qui in realtà arriviamo a Creri però arriviamo a Creri un po' in ritardo rispetto a me ma anche rispetto alla nostra storia nel senso che per quanto riguarda Creri di cui cominciano i nomi strani la vera rivoluzione appunto lui non si occupa di panorama non si occupa di fantasmagoria si occupa di tutte queste cose qua in particolar modo di questa la stereoscopia lo stereoscopio che poi è una cosa che si trova anche facilmente non di pop up book si occupa di tutte queste invenzioni ottocentesche qui siamo davvero 820 830 sono tutte invenzioni che interessano Creri proprio perché pongono appunto decisamente l'osservatore vi leggo solo una cosa voglio aprire gli occhiali perché non ci vedo più niente scusate rendo conto che ormai c'è una nebbia su queste venti mi leggo solo una cosa delle tante che avrei voluto leggervi si occupa di diorama però vedete il video diorama è dopo avevo visto cominciare negli anni venti gli interessa di più il diorama perché è uno spettacolo complesso eccetera ecco voglio leggervi solo questa cosa qua del diorama visto che l'abbiamo visto il diorama multimediale privava l'osservatore di questa autonomia cioè l'autonomia del panorama l'abbiamo visto ve l'ho detto è seduto nel diorama mentre nel panorama si muove eccetera il pubblico è un aspetto vabbè qui sta parlando del panorama il pubblico era spesso situato su una piattaforma e l'abbiamo detto il diorama invece era una macchina composta lo teneva appunto lì seduto però vi ho detto anche lo tiene di seduto perché a differenza del panorama il diorama è una macchina complessa dove si svolge uno spettacolo appunto multimediale multimediale perché dicevo appunto ci sono anche suoni musiche rumori eccetera quindi come il fenachistoscopio lo zootropio adesso vi faccio solo vedere perché pensate che vi stia inventando le parole ma esistono dove non me l'ho portato il fenachistoscopio lo zootropio prassinoscopio ah sì vabbè sono tutti parenti fenachistoscopio sono tutte cose molto simili vi assicuro che esiste come il fenachistoscopio e lo zootropio guardiamolo il diorama era una macchina composta di ruote in movimento abbiamo anche visto l'omino che gira eccetera e faceva questo è un punto importante per la nostra storia ma anche per Credi appunto perché si occupa di questo non di altro e faceva dello spettatore uno degli elementi della macchina stessa per Marx una delle grandi innovazioni tecniche dell'ottocento era il modo scusate era il modo in cui il corpo era stato reso adattabile alle poche grandi forme fondamentali del moto ma se la modernizzazione dell'osservatore comportava l'adattamento dell'occhio alle forme razionalizzate di movimento gli ingranaggi le macchine le ruote questo vuol dire forme razionalizzate del movimento tale cambiamento fu reso possibile esclusivamente grazie all'altro fenomeno strettamente correlato la crescente astrazione dell'esperienza ottica da un referente stabile la camera oscura l'astrazione da quel tipo di esperienza e quindi qui però il panorama è importante perché io astraggo la storia che stiamo un po' vedendo è una progressiva storia di astrazione appunto uso proprio le sue parole dell'esperienza ottica da un referente stabile nell'ingresso appunto si carica l'osservatore appunto di una tanto di una fisicità di una mobilità e di una interconnessione con gli ingranaggi questo è fondamentale gli ingranaggi del degli ingranaggi spettacolari di queste macchine che si tratti di ruote che si muovono adesso ve lo faccio vedere di effetti ottici eccetera una delle caratteristiche della modernizzazione dell'ottocento era infatti lo sradicamento della visione da quel sistema di rappresentazione poco flessibile che era la camera oscura allora nella nostra vi leggo solo un'altra cosa la forma con la quale un nuovo pubblico questo di queste cose qua consumava le immagini di un'illusoria realtà era isomorfa cioè appunto coerente continua ma proprio isomorfa per avere la stessa forma degli apparati utilizzati per accumulare saperi e conoscenze scientifiche sull'osservatore stesso queste cose qua queste cose qua sono al tempo stesso ve l'ho detto anche rispetto ad altre cose il risultato macchine spettacolari giochini giochini per bambini ma sono anche al tempo stesso strumenti per strumenti analitici per studiare la visione sono isomorfi in questo senso che appunto la macchina spettacolare è anche una macchina scientifica lo spettacolo è anche una dimostrazione ottica in effetti la posizione fisica dell'osservatore richiesta dal fenachistoscopio ah vabbè l'unico che non vi ho parlato è il fenachistoscopio però vabbè sono tutti più o meno simili allo zotropio la posizione fisica dell'osservatore richiesta dal fenachistoscopio denota una confusione di tre modi di esistenza il corpo dell'individuo è allo stesso tempo lo spettatore il soggetto di osservazioni e di ricerche empiriche come funziona il suo occhio soprattutto è l'elemento di una macchina di produzione perché di una macchina di produzione perché vi faccio vedere un video questa cosa qua fenachistoscopio prastinoscopio funziona così vedete scusate si vede si si ok questa cosa che vi sto facendo vedere in realtà è un frammento da un film che si chiama Fratelli Skladanowski di Wim Wenders un film bellissimo se riuscite a recuperarlo è un film che Wim Wenders fece per il centenario del cinema e omaggio a questi due grandi fratelli anche loro come lumieri inventori di tantissimi dispositivi ottici non solo di una specie di precinema tedeschi Fratelli Skladanowski che però a differenza del dei Lumière che come vi dicevo anche prima avevano degli industriali borghesi industriali le officine Lumière esistevano già da tempo ed erano specializzate in attività fotografiche quindi quando brevettano il cinema hanno già tutta la struttura per dare vita al cinematografo che poi vabbè abbandonano quasi subito i Fratelli Skladanowski invece come molti altri inventori dell'epoca sono appunto per metà scienziati per metà artisti ma per metà degli ambulanti un po' scalcagnati e quindi loro arrivano a brevettare il cinema sono degli inventori straordinari però poi non hanno la forza industriale ed economica di dare vita poi a una commercializzazione della loro invenzione gli inventori del cinema in realtà sono stati tantissimi e il fattore industriale ed economico ha fatto la differenza comunque qui vedete in azione vedete come funzionava è una ruota ed è il principio appunto allora lo dico male perché oggi è stato tutto ripensato però delle cosiddette diciamo appunto volgarizzo molto comunque il principio della persistenza retinica delle immagini continue per cui appunto se io guardo in mezzo a queste fessure però fermandomi in base appunto a un intervallo però anche a una giusta velocità perché poi appunto il coordinamento il mio corpo è anche l'attivatore di questo meccanismo e deve far andare così come succedeva per il cinematografo all'inizio bisogna azionare a manovella la velocità con cui io ruotavo questa manovella era una velocità che determinava un avanzamento più o meno realistico ed efficace nelle immagini quindi il mio corpo è anche appunto un attivatore fondamentale e l'effetto si vede allora il principio anche qui però vabbè adesso mi fermo su queste cose qua il principio appunto delle immagini consecutive è il principio su cui si basano tutte queste invenzioni ottocentesche questa vabbè la conoscete il taumatropio se io faccio girare appunto una cosa ma anche quando una monetina gira però che questi sono tutti esperimenti scientifici sfide che alla base si pongono l'obiettivo di studiare la visione binoculare ma attenzione studiarla non più soltanto appunto in termini ottici matematici ma come visione incarnata poi qui c'è tutto il cotec che crari giustamente prende in considerazione anche di ordine filosofico come diciamo all'inizio quindi un ripensamento della percezione anche dal punto di vista filosofico questo prassinoscopio è interessante perché lo si poteva usare anche allo specchio anzi uno dei modi più interessanti era usarlo allo specchio per cui si vedeva l'immagine però al principio è sempre quello dell'intervallo a crari questa cosa mi piace tantissimo ma ha ragione rispetto al nostro percorso perché come dicevamo il corpo dell'osservatore appunto è implicato come attivatore anche come soggetto però di un esperimento scientifico lui per primo e anche poi come superficie di iscrizione di uno spettacolo ottico non solo ma come vedete tutte queste macchine sono ingranaggi meccanismi e l'uomo il corpo dell'uomo l'osservatore entra come meccanismo come già un po' però succedeva nella fantasmagoria che però per una serie di ragioni interessa meno perché la fantasmagoria spinge troppo sul pedale del magico del fantastico queste macchine no queste macchine non hanno nulla di tutto questo però insomma l'osservatore è implicato come meccanismo attivatore qui cosa abbiamo portato quello di prima l'abbiamo visto e prassinoscopio dentro qui c'erano vedete questi sono specchi allora non c'è più bisogno della fessura che dà il tempo di visione ma le immagini appunto si specchiano all'interno il prassinoscopio poteva essere usato in associazione con la lanterna magica e qui sono i primi esperimenti di cinema che poi moltissimi di queste esperienze che sia virtuale come nel panorama quindi io monto nel batorama dicevamo io compio un montaggio vicino lontano mi muovo panoramico appunto la panoramica è una delle figure chiave del linguaggio cinematografico il carrello che abbiamo citato a proposito della fantasmagoria immagini che vengono verso di me o se è lontano di me e la panoramica sono due movimenti base del cinema li abbiamo ritrovati tutti e due perché poi dentro questi dispositivi che siano movimenti reali o movimenti appunto simbolici come il montaggio che lo spettatore del panorama compie certamente e su questo però possiamo avere una visione un pochino diciamo quindi teleologica certamente la messa in movimento di tutto questo è uno dei grandi obiettivi poi tanto che appunto poi il prastinoscopio viene da Reynore tra l'altro è considerato uno dei come Maybridge Maree eccetera uno dei grandi inventori del Precina vedete viene associato all'anterna magica lo stereoscopio è un altro aggeggio su cui Creri scrive cose bellissime interessantissime perché oltre ad essere un oggettino un giocattolo che poi tutti possiedono è l'emblema della ricerca sulla visione binoculare applicata alla visualizzazione spettacolare di immagini forse lo avete usato una coppia di immagini identiche che sfruttano appunto la visione la nostra visione binoculare per creare un effetto di tridimensionalità assolutamente ingannevole perché poi la tridimensionalità della stereoscopia non è non ha nulla a che vedere con la tridimensionalità che sperimentiamo quotidianamente abbiamo messo anche il pop-up book io sono un grande appassionato pop-up book pop-up i libri che escono ma perché i pop-up book sono dentro questa storia degli oggetti affascinanti tanto perché sono oggetti meravigliosi questo è proprio uno dei primi gli inglesi sono stati dei grandi inventori pop-up book ma perché oltre ad essere oggetti per cui le immagini emergono e ormai lo abbiamo capito per questa parola non l'ho usata non l'ho enfatizzata sufficientemente ma state capendo che l'altra metà di ogni pratica immersiva è l'emersione che si tratta di fantasmi o appunto di oggetti che escono ma il pop-up book potrebbe essere un emblema appunto di questa dialettica tra immersione ed immersione sono anche altre forme di oggetti appunto multimediali intanto di nuovo mixed media per eccellenza e poi sono anche oggetti performativi perché agentivi che richiedono da parte dello spettatore dell'osservatore del lettore di essere usati perché lo sapete anche i moderni pop-up book ma anche questi avevano delle linguette per cui bisognava muovere queste immagini emergevano delle cose cambiavano i fondi si muovevano c'erano piccoli piccoli accenni di movimento eccetera quindi sono oggetti complessi anche questi appunto immersivi in un certo senso multimediali eccetera eccetera e vabbè poi non può mancare in questa breve storia il flip book tra l'altro vedete come veniva chiamato Kineograph appunto cinema e sono appunto i flip book forse li avete usati anche i fratelli Skradanovski li facevano per cui fate scorrere velocemente le pagine del libro sembra appunto che le immagini si muovano e quindi arriviamo al cinema ma rapidissimamente Edison e Lumière la differenza balza all'occhio sono un po' la nostra lanterna magica e il nostro mondo nuovo Edison poi questa roba qua dura un anno e mezzo perché poi arriva questa Edison la brevetta il kinetoscopio Edison la brevetta il 1894 poi nel 1895 arriva Lumière nel 1896 Edison si inventa il suo il suo cinema appunto collettivo però nella storia nostra ripeto non tanto banalmente i dispositivi ma appunto di pratiche e appunto di implicazione del corpo e di pratiche di osservazione nel 1800 alla fine dell'800 questo secolo abbiamo visto costellato di esperienze spettacolari diversissime quelle due storie che sono due diverse storie di implicazione del corpo di esperienza del corpo e rapporto alle immagini sono entrambe prese in carico dai due inventori del cinema Edison inventa questo il kinetoscopio visione singola scatola magica dentro ci sono filmati assolutamente identici a quelli che i Lumière stanno però proiettando su uno schermo vi avevo messo anche i raggi X ma ve lo dico soltanto non dico intanto sui raggi X perché guardate la data i raggi X del 1896 forse lo sapevate già e assieme però anche alla pubblicazione e interpretazione dei sogni di Freud i raggi X Freud e cinema sono una grande triangolazione molto affascinante perché appunto il cinema ci racconta il mistero fissa il mistero della realtà all'esterno i raggi X invece lo penetrano i corpi e poi appunto c'è la psicoanalisi che fa un altro tipo di lavoro rispetto appunto alla materialità dell'esperienza però i raggi X ve lo portavo anche per chiudere questa questione del rapporto fra scienze e spettacoli i raggi X sono un'invenzione scientifica ma poi cosa succede? che guardate chi c'è a destra Udini tra l'altro Udini si ritiene che Udini non ha avuto figli era sterile e pare perché per colpa dei raggi X per il suo interesse un po' per i raggi X appunto che usa dei suoi spettacoli di magia diciamo che i raggi X all'epoca non facevano benissimo anche adesso sapete appunto quando andiamo a farci i raggi sotto una serie di precauzioni però ecco però vengono immediatamente spettacolarizzati questa è una cosa che ci hanno fatto molto buffo degli anni 50 questa era ne facevano tanti all'epoca un concorso di bellezza posturale in realtà era legata alla diffusione della medicina chiropratica e quindi grazie ai raggi X poi veniva eletta Miss Postura e quindi che aveva una postura migliore però so ai raggi X ha tutta una storia molto molto affascinante l'ha ricostruita ma ci sta lavorando credo che tra l'altro stia per uscire un libro Deborah Toschi dell'Università di Pavia collaboratrice di Federica Villa sta lavorando molto sull'imaging scientifico perché i raggi X sono proprio un punto di snodo nella storia dell'imaging scientifico tra l'altro a questo proposito ma ci vanno domani quindi so cos'è ma non ho ancora vista l'imaging scientifico c'è la bellissima mostra se riuscite bellissima dopo è scontato non so io la vedrò domani la Fondazione Prada del lavoro che ha fatto Cronenberg appunto sulle statue del museo appunto fiorentino per cui c'è anche di tutto questo lavoro ma vabbè l'imaging scientifico però ve ne parla appunto di Deborah Toschi trovate sicuramente qualche studio non libri ma saggi se vi interessa questo tema trovate già qualcosa il libro credo che stia uscirà forse quest'anno però i raggi X sono una storia affascinante per noi che vabbè chiudiamo qua avevo altre cose da dirvi ma voglio passare rapidamente a questo piccolo capitolo cerco di chiudere tutto in una ventina di minuti o poco più due cose perché poi arriva appunto il cinema il cinema no però almeno una cosa vi ho provato anche questo piccolo fatto una cosa ve la faccio vedere questo tanto dura un minuto e ci parlo sopra questi sono appunto gli occhiali da vista della nonna questo signore George Abbe Smith è assieme a Williamson e altri uno dei registi della cosiddetta scuola di Brighton la scuola di Brighton è una famosissima scuola inglese proprio dei primissimi del novecento il cinema appena arrivato uno dei grandi contributi che questa scuola dà non tanto alla storia del cinema perché tutta questa roba qua adesso non c'entra in realtà col cinema c'entra esattamente con la storia che stiamo raccontando abbiamo provato ad abbozzare c'è una storia di dispositivi ottici e di implicazione del corpo dell'osservatore ne fanno moltissimi questi giochetti vedete cosa succede nel film George Albert Smith usa una figura che non esiste ancora e che di fatto non sarà questa cioè usa il dettaglio si chiama effettivamente dettaglio vedete c'è un reading glass che però appunto è una lente di ingrandimento e usa questo dispositivo ottico la lente di ingrandimento è un dispositivo ottico per giocare con un aspetto che il cinema ritorniamo a quello che dicevamo sul panorama finalmente consente di fare in modo strutturale formale cioè portare le cose vicino allo spettatore avvicinare non solo avvicinare ma scusate lo faccio ripartire perché l'attivista dura proprio un attimo non solo avvicinare la realtà catturarla Bela Balache in un libro che vi ho portato ma dal quale non vi leggo niente perché è tardi non quando vede queste cose ma in generale giustamente dice il cinema inventa una nuova il primo usare questa termine una nuova cultura visiva diceva lui non cultura visuale perché? perché il cinema semplifico moltissimo però diceva Balache il cinema era interessante la situazione il cinema ci rende rende noi non semplicemente spettatori di cose nuove ma cambia letteralmente il nostro modo di percepire il mondo perché appunto per la prima volta abbiamo una conoscenza del mondo ma anche della nostra esperienza visiva completamente nuova rivelata e insieme al tempo stesso implementata dal cinema allora questi esperimenti dicevo sono esperimenti affascinanti perché combinano due principi quello appunto dell'avvicinamento alla realtà della sua analisi perché usa la lente di ingrandimento quindi un dispositivo scientifico per ingrandire la realtà per analizzarla in quel periodo cose come queste vengono fatte per esempio usando i microscopi adattando i microscopi per farli diventare appunto visioni microscopiche il cinema scientifico nasce quasi subito però vi ho fatto vedere questo perché invece è un divertimento e però al tempo stesso la soggettiva per cui appunto lo spettatore guarda in dettaglio e al tempo stesso si guarda come in questo caso guardare no? ok il cinema questo lo saltiamo noi finora abbiamo provato appunto in modo un po' un po' freestyle perché le cose sono troppe però mi interessava darvi alcuni spunti riflessioni alcune aprirvi appunto alcuni squarci su una storia che precede l'epoca contemporanea appunto e la visualità contemporanea però appunto il cinema rispetto alla storia che abbiamo descritto c'è una storia che insieme appunto una storia di immersione ed emersione una storia di co-implicazione del corpo al di là appunto della posizione di qualsiasi posizione neutra o come direbbe crede appunto della posizione della camera oscura di co-implicazione del corpo come agente attivo o comunque messo in gioco messo a volte problematicamente in gioco appunto dallo spettacolo visivo il cinema fa una cosa e però questa la fa davvero non tanto in un certo senso anche in questo caso anticipando realtà virtuale ma più che anticipando ripeto dentro una storia dei posizionamenti del corpo dell'osservatore più che altro facendo esercitare l'osservatore in pratiche che non gli sono appunto consuete comincia a giocare molto presto ma vi ho portato due esempi relativamente tardi del 41 e del 47 poi uno anche contemporaneo ma lo saltiamo comincia giustamente e comprensibilmente a porre la questione non soltanto dell'immersione ma anche dell'identificazione ora su questa questione del perché vi pongo questa questione appunto dell'identificazione siamo sempre una logica immersiva però ponendo come punto di partenza scusate come punto d'arrivo e ve lo posso come punto di partenza l'idea appunto della dell'immersività della realtà virtuale lo snodo del cinema non è semplicemente appunto un momento che continua ancora oggi ma noi ovviamente dentro il nostro percorso lo usiamo anche come luogo appunto di sperimentazione di pratica visuale che oggi non esiste più noi quella pratica ormai l'abbiamo assorbita appunto Balasch in quel momento cioè negli anni 20 e 30 può scrivere che c'è una nuova cultura visuale per noi quella nuova cultura visuale del cinema è un dato ormai assodato anzi per certi versi quella cultura visuale è una cultura che appartiene al passato il cinema è un vecchio medium non è un nuovo medium ma comunque perché ci tenevo a fare questo piccolo piccolo arresto sull'immagine cinematografica e soprattutto sulla soggettiva perché dentro questo percorso estremamente sintetico di tappe anche idealmente parallele al di là della cronologia dei dispositivi il cinema eredita tutta una serie di preoccupazioni che abbiamo visto soprattutto come dire delle apparecchiature ottocentesche di integrazione del corpo di socializzazione del corpo di partecipazione multimediale di coimplicazione dell'osservatore eccetera eccetera di immersività naturalmente perché lo spazio del cinema era uno spazio per definizione immersivo non solo uno spazio immersivo ma anche uno spazio immersivo naturalmente perché le immagini emergono era uno spazio immersivo anche in senso letterale la stereoscopia che noi abbiamo visto in quei marchi in genio e poi il cinema in 3D per Eisenstein niente meno che per Eisenstein addirittura il cinema stereoscopico il cinema in 3D doveva essere il cinema del futuro per Eisenstein il cinema era esatto doveva essere quella cosa lì poi noi sappiamo che il cinema stereoscopico in realtà non ha mai davvero funzionato non ha funzionato negli anni 50 quando viene progettato ha funzionato poco quando c'è stato il suo revival una 15 ad anni fa funziona raramente avatar per intenderci ma in associazione ad altre cose ormai in associazione ad altre cose l'effetto emersivo un po' ludico non funziona davvero mai per tutta una serie di ragioni non da ultimo perché appunto l'emersività stereoscopica del cinema in 3D è in realtà un 4D il cinema è già in 3D per cui è sempre una specie di aggiunta di curioso compromesso rispetto a un'idea di tridimensionalità che il cinema già appunto soddisfa in altro modo ma insomma al di là di queste questioni però appunto lo spazio è la sala uno spazio appunto immersivo però è anche uno spazio in cui accade abitualmente per noi senza che ormai ce ne accorgiamo che oltre ad essere immersi nelle immagini noi sperimentiamo anche una cosa che appunto la realtà virtuale oggi esplora in modo radicale che è quello dell'identificazione con i bordi dell'immagine chi di voi non so c'è qualcuno per esempio esperto di videogiochi sa benissimo che appunto quel tipo di inquadratura soggettiva poi è stata largamente ereditata esplorata anche dal dal modo videoludico nel libro di Elisabetta Modena che vi citavo all'inizio non a caso c'è tutta una parte ma inevitabilmente di analisi della dimensione videoludica in rapporto all'altezza virtuale la storia semplificandola al minimo è soggettiva cinematografica first person shooter e shoot della realtà videoludica e realtà virtuale c'è una continuità al di là ripeto dei dispositivi delle tecnologie della parecchiatura c'è una continuità fortissima fra questi posizionamenti scopici e appunto fra la coimplicazione del corpo dell'osservatore nella costruzione appunto della narrazione visiva però il primo dispositivo da aver strutturato formalizzato questo tipo di immersività che è un altro tipo di immersività rispetto a quella che abbiamo visto è esattamente il cinema come lo ha fatto lo ha fatto inventandosi non banalmente una figura come la soggettiva la soggettiva è per definizione appunto quando io guardo un film e per poco tanto mi incarno nello sguardo di uno dei personaggi è esattamente quello che poi appunto videogiochi e realtà virtuale avrebbero portato alle estreme conseguenze dimentico il mio corpo entro nello sguardo appunto l'immersione in questo caso ecco perché poi ho sinteticamente chiamato questo piccolo questa piccola deviazione in medesimazione qualcosa di più non sono soltanto immerso vi ricordate abbiamo detto la fantasmagoria non si guarda dalla fantasmagoria e sono avvolto e immerso in questo caso io sono letteralmente identificato con che cosa i bordi e l'immagine colui che ha era però anche per presentarvi una metodologia di analisi diversa questo signore che qualcuno forse conosceva che si chiama Christian Metz è stato uno dei grandi fondatori assimiotiche del cinema alla fine anni 60 i primi saggi dei suoi primi fondamentali saggi degli anni 60 poi che fondano di fatto la semiologia del cinema chiamiamola semiologia perché è francese però Metz ad un certo punto scrive anche un libro come questo e uno dei grandi contributi di questo libro molto influenzato dall'analisi della psicanalisi Lacaniana è proprio il concetto di identificazione e Metz è quello che con più chiarezza dice due cose che al cinema noi ci identifichiamo con i personaggi grado zero però è anche l'elemento fondamentale al cinema però noi al cinema ci identifichiamo anche con un'altra cosa che lui chiama identificazione secondaria anche se poi rovescia le cose ma che noi ci identifichiamo con i bordi e l'inquadratura e dice una cosa vi leggo rappresentativamente solo questa e dice una cosa che a noi piace e cioè lo spettatore si identifica al cinema in realtà con se stesso e cioè con se stesso in quanto puro atto di percezione quando io sono in soggettiva è vero adesso lo vediamo soggettiva cinematografica è paradossale perché io mi identifico con un personaggio che io però non vedo esattamente con la realtà virtuale l'operatore della realtà virtuale l'osservatore della realtà virtuale non ha volto non ha corpo e volto è puro sguardo è pura superficie ricettiva e quindi dice Mez al cinema una delle grandi novità rappresentate dal cinema a proposito di immersività e identificazione è che al cinema lo spettatore si identifica con se stesso in quanto puro atto di percezione come condizione di possibilità del percepito e dunque come una sorta di soggetto trascendente anteriore a ogni esserci ed è vero che identificandosi con se stesso come sguardo lo spettatore non può fare altro che identificarsi anche con la macchina da presa che ha guardato prima di lui ciò che gli sta guardando adesso la cui posizione determina il punto di fuga lo spettatore diventa poi qui vi leggo solo ancora questa cosa molto interessante dice mai come nel caso del cinema quando Mez scrive la realtà virtuale la realtà aumentata non c'è ancora nulla è tutto questo quindi noi oggi dovremmo appunto ampliare la sua osservazione comunque ogni visione si caratterizza da un duplice movimento proiettivo e introiettivo la coscienza come superficie sensibile di una registrazione io sono lo schermo ma al tempo stesso appunto io getto il mio sguardo sulla realtà e al tempo stesso inscrivo questa realtà dentro di me sulla mia rettina io sono al tempo stesso proiettivo e introiettivo guardare Mezzo dice molto bene occorre diffondere sul mondo una specie di flusso che si chiama sguardo e spiega tutti i miti del magnetismo poiché gli oggetti possono risalire quel flusso appunto in senso inverso e giungere alla fine la nostra percezione che ora c'era molle e non più fonte emittente perché cosa sta dicendo a proposito di appunto immersione e immersione appunto usando le sue parole proiezione e come dire incapsulamento retinico dice lui proprio fisico eccetera sta dicendo appunto che la nostra esperienza immersiva esaltata dal cinema attraverso l'identificazione con i bordi della macchina da presa e con questa specie di trasformazione del corpo dello spettatore ma pura superficie percettiva non fa che rendere del tutto paradigmatico perché poi per mezzi il cinema è paradigmatico dei meccanismi della percezione rendere paradigmatico appunto il nostro rapporto di flusso con lo sguardo e che cosa succede al cinema succede che questa questione per tornare poi alla figura cardine di questo meccanismo che è la soggettiva questa figura vi faccio intanto partire il video è stata giustamente ma vi faccio vedere solo il dottor Giacci a passare ci vedo sulla domanda allora dottor Giacci e mister ai intanto va bene è un film di Victor Fleming che è il signore che pochissi anni prima fa il mago di Ozzi è stato uno dei grandi film della storia di cinema classico e va bene e va bene la vicenda di quella di Stevenson però voglio farvi vedere l'inizio ci vediamo ci vediamo ci vediamo Ah, scus. Come in. What is it, Paul? It's a quarter to three, sir. And your address at the university is a three. Oh, it is, Paul. So it is. You know, Paul, you're a nuisance. Yes, sir. But I don't know what I should do without you. Thank you, sir. Your sense of duty is as impregnable as Gibraltar. Even Bach can't move it. Yes, sir. Thank you, sir. I'm afraid you'll be late, sir. I see you want to get rid of me. All right, Paul. All right. There's a lovely rose, this pool. Thank you, sir. Will you wear your holocaust or cape, sir? Give him a cape. Scusate, volevo fare, fermarmi qui, vabbè. Allora, Dr. Jekyll e Mr. Hyde lo fa solo fino, però fa per quasi una decina di minuti. Usa questa stratagemma che è appunto una soggettiva, è l'unico film nel cinema classico. L'altro film è quello che vi avevo portato, ma non vi faccio vedere, appunto Lady in the Lake di Robin Montgomery. Quello di Montgomery addirittura è tutto così, è tutto in soggettiva con pochissime eccezioni. Quando Montgomery, che è anche il protagonista del film, fa il narratore e quindi si rivolge direttamente allo spettatore, tanto rovesciando perfettamente la prospettiva, o è un'interpellazione, o è una soggettiva. posizioni simmetriche opposte, oppure quando appunto si specchia, come nel caso di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Questo però Lady in the Lake è un esperimento. Dr. Jekyll e Mr. Hyde invece è un film classicissimo in cui questo espediente dell'immeditazione soggettiva rischia davvero di disorientare uno spettatore del 1941. Non solo, come avete visto e come succede sempre in questi casi, e come succede appunto nel caso della realtà virtuale, o comunque di esperimenti, anche di avatarizzazione del punto di vista, meno eccentrici rispetto alla realtà virtuale, la questione fondamentale è appunto la negazione del volto e quindi l'identificazione cinematografica, questo tipo di immersione identificativa è al tempo stesso appunto un grande paradosso, perché mi identifico col volto di qualcuno che non ho visto, che non ho ancora visto, almeno in queste circostanze quando c'è il film forza, questo tipo di identificazione, però al tempo stesso ed è quello che a noi interessa maggiormente in questo contesto, mi concede, e il cinema ripeto ha contribuito come nessun altro medium ad aprire la strada a un certo tipo di esperienza contemporanea, rielaborando anche tutto ciò che abbiamo visto dal passato, mi concede di entrare, identificandomi con i bordi della macchina da presa, di medesimarmi non con un ambiente mediale, ma con l'immagine in quanto dispositivo insieme, ottico e spettacolare. È un'aggiunzione che appunto a Creri, punto d'arrivo di Creri, non citato o meglio, citato sì, ma non analizzato appunto al cinema. Allora, per chiudere questo breve capitolo, perché avrei voluto dirvelo meglio, ma sono tardi, però questo breve capitolo per dire che cosa? Che in questo percorso, che è un percorso insieme immersivo e però appunto di coimplicazione progressiva del corpo dell'osservatore, per seguire appunto la linea disegnata da Creri, l'identificazione cinematografica, questo tipo di identificazione, è ciò che espropria definitivamente, astrae definitivamente il corpo da una posizione appunto inerte, stabile, ma anche attenzione prevedibile certa e quindi da una certa saldezza o sicurezza epistemologica e lo pone a rischioso, affascinante contatto appunto col farsi delle immagini. Letteralmente, nel senso che come succede nell'incipit di questo film, noi siamo appunto, diventiamo davvero parte integrante, letteralmente integrante, della macchina da presa. Noi diventiamo, come dice Mezzi, il proiettore. Letteralmente ci coincidiamo in questo caso, poi lui dice, per metà con la macchina da presa, che ha già visto tutto questo, io sto rivedendo, per metà appunto col proiettore che la proietta, ma insomma, noi diventiamo corpo tecnologico, letteralmente corpo tecnologico. Allora, vi ricordate quello che abbiamo letto poco prima di Crelli, no? Quando Crelli dice, io appunto divento un ingranaggio del meccanismo. Lungo questa piccola storia, la soggettiva tecnolografica è una specie, quando però è usata così, appunto, messa a tema come questione centrale, diventa una specie di paradigma del tecnomorfismo dello sguardo, appunto della trasformazione del personale, dell'osservatore, in un ingranaggio di funzionamento del dispositivo visivo. Certamente lo spettatore in questo caso non è più, o gli viene ricordato che non è mai, ma in questo caso non è assolutamente più un semplice corpo posto in una situazione, in una posizione inerte da cui appunto guardare le immagini. Dentro questa velocissima progressione lungo questa linea, appunto, medesimazione, identificazione, vi chiudo facendovi vedere due cose, però anche in questo caso riprendendo le questioni che abbiamo visto all'inizio. Ambienti mediali, esperienze di sguardo. Allora, l'ho chiamato evasioni, perché come dicevo, per me appunto la realtà virtuale, questo tipo di esperienze, sono esperienze che proprio per come pongono, mettono appunto, in, probabilizzano la questione dell'osservatore, appunto, la sua, la sua interazione con il dispositivo, sono più pratiche di tipo evasivo, non solo, ma evasione anche nel senso che fino a prova contraria, che però in realtà virtuale questa prova non ce l'ha ancora data, l'esperienza in VR, non in realtà aumentata, ma in VR sono ancora essenzialmente esperienze evasive anche nel senso di escapiste ludiche. Oggi, forse lo sapete, c'è, si fa un gran parlare, ma in realtà no, ci sono anche esperienze concrete di collaborazione, per esempio, in VR in ambito produttivo e industriale, la Toyota, per esempio lo usa, o in ambito medico, collaborazioni, network di medici che operano in realtà virtuale, eccetera. Si tratta però di esperienze intanto estremamente problematiche, tutte da affinare e del tutto sperimentali. Tolti questi casi e tolte alcuni esempi di cui, per esempio, proprio il libro di Elisabetta Modena, che approfondisce, la realtà virtuale lo sapete benissimo, è comunque ostaggio di due industrie, l'industria videoludica e l'industria pornografica, ma poi è ostaggio una parola brutta, perché poi non puoi dire, sono industrie che al tempo stesso, come dire, l'hanno adottata con felici risultati e al tempo stesso diventano poi industrie che favoriscono lo sviluppo tecnologico, però c'è proprio da fare. La realtà virtuale è ancora allo stato attuale delle cose, a volte deve essere un divertimento assolutamente elitario, perché i caschi, poco che costino un buon casco, costano ancora 400-500 dollari, poi come è successo per tantissime tecnologie, nell'arco probabilmente di un paio d'anni, forse anche meno, i prezzi caleranno, però lo stato attuale continua, i contenuti sono ancora molto pochi e comunque appunto le industrie che si avvantaggia maggiormente sono quella videoludica e quella, in un certo senso videoludica e quella pornografica, tanto entrambi appunto lavorano proprio sull'implicazione del corpo dell'utente, quindi evasione anche in questo senso, per come poi la realtà virtuale, di cui però appunto non vi faccio adesso vedere gli esempi, ragiono oggi, però volevo chiudere. Allora, l'IMAX dato appunto bisogna i film in IMAX, bisogna girarli con le cineprese IMAX, eccetera, l'IMAX è questa roba qua, poi è una sala cinematografica vagamente simile a una sala normale, con un paio di differenze e finalità, e la prima è proprio lo schermo. Guardate, questa è la differenza. a sinistra c'è lo schermo IMAX e a destra uno standard screen. Avatres è girato qui l'IMAX, vedete, il formato cambia, quindi il film in IMAX è diverso, e comunque è senso diverso, vedete che è leggermente più quadrato, ma in cui ti cambia proprio lo spazio, in realtà è più grande lo spazio rispetto il film in IMAX. Il concetto, per questo ci tenevo a sottolinearlo, e poi appunto i puntini con la fantasmagoria e altre cose uniteli voi, il principio dell'IMAX è che lo schermo deve scomparire. Vedete com'è fatto? Lo schermo IMAX è enorme, tendenzialmente più quadrato, e enorme nel senso che la percezione, concavo, è leggermente concavo, quindi, vabbè, qui non abbiamo aperto il capito sul cinerama, su tutte le invenzioni, la storia del cinema è strapiera ai tentativi di costruire sale che ereditavano il principio del panorama ottocentesco per far diventare sale avvolgenti. L'IMAX in realtà è erede di tutta quella roba lì, perché lo schermo è leggermente concavo, ma soprattutto è enorme, tendenzialmente quadrato, quindi l'idea è che si perda il principio, l'immagine appunto sconfina, evade, questo è un primo concetto di evasione che volevo porvi, evade dallo schermo, dal principio appunto dell'incorniciamento, e lo sapete, se avete anche solo le giochiato le prime tre pagine del libro di Pinotti, o dei principi di realtà virtuale, appunto, lo scorniciamento, la frameness, cioè l'immagine di realtà virtuale non ha pornici confini. Giusto, vero, però attenzione, perché poi il cinema, queste cose qua, senza per forza tornare alla fantasmagoria ed altre esperienze di questo tipo, di scorniciamento, però appunto il cinema oggi, quella cosa lì, quel tipo di immersività ed evasione, da certe logiche appunto, di incorniciamento, lo fa per esempio con una tecnologia come l'IMAX. Non solo, l'IMAX ha tutte queste caratteristiche spaziali, ma poi anche un altro aspetto di scorniciamento e di evasione, che è l'aspetto sonoro. Il sonoro dell'IMAX, però questo lo si trova anche in alcune sale non IMAX, il principio dell'Atmos, il sonoro delle sale IMAX è anche sul soffitto, quindi l'IMAX è anche l'ATI e soffitto, che ha anche poi il sistema Atmos. L'UCI, la catena dell'UCI, che non può, non usa il sistema IMAX, però ha inventato, lo si trova, l'iSense, sono un certo tipo, anche quella è una categoria di sale, costano di più, l'iMAX costa tanto di più rispetto al biglietto normale. L'iSense delle UCI più o meno funziona anche quello con il sistema Atmos, quello è il principio, che il suono non è più un suono appunto su RAND, Dolby, eccetera, ma è un suono completamente avvolgente, anche in quel senso lì sconfina rispetto alle logiche tradizionali. Per cui quando vedete un film in IMAX, siete completamente, ma letteralmente immersi, il vostro corpo è portato appunto a un grado di immersività, che è una proiezione abituale, sia in senso sonoro, sia in senso visivo, poi se appunto, come nel caso di Avatar, c'è l'aggiunta del 3D, che era il modo appunto corretto di vedere quel film, che poi si poteva vedere anche in 2D, allora capite bene che tutto questo partecipa o contribuisce appunto a creare un clima immersivo, che è tanto l'esaltazione di un principio che il cinema ha sempre vissuto, ma che oggi dialoga più direttamente con altre forme di implicazione dell'osservatore, che sono appunto più quelle del mondo videoludico e del mondo, e della realtà virtuale. E chiudo, facevo vedere un pezzettino da questo film, Spider-Man No Way Home di Joe Watts, per chiudere con un ultimo concetto, che ci riporta un tema che abbiamo sfiorato la volta scorsa, che riguarda anche, come dire, l'ontologia dell'immagine contemporanea. Allora, ripeto, non volevo parlare di realtà virtuale, ma fermarmi al cinema, cioè a dispositivi, tutto sotto appunto a un vecchio medium, che eppure però, lo abbiamo visto, poi appunto la realtà virtuale è dietro di sé una lunga storia di ambienti mediali, più che di ambienti mediali, che l'hanno in qualche modo prevista, immaginata, perché poi spesso i vecchi media immaginano quelli nuovi. Volevo chiudere con questo, questa breve clip. Allora, intanto, questo film è uno dei film, se qualcuno di voi è un po' esperto di Marvel Cinematic Universe, Spider-Man No Way Home è uno dei film del multiverso, cioè della nuova saga, diciamo. C'è stata prima la Infinity Saga, adesso c'è la Multiverse Saga. La Multiverse Saga a sua volta è composta di tre fasi, perché poi, appunto, Marvel Cinematic Universe, la specie, sono piani quinquennali sovietici, per cui c'è stata la Infinity Saga 1, 2, 3, adesso c'è la Multiverse Saga fino al 2026, per ora, 3, 4, 5. Insomma, sono mondi, appunto, universe, Marvel Cinematic Universe, poi non solo cinematiche, perché poi ha, come dire, si diffonde, essendo un classico franchise, si diffonde in televisione, fumetti, videogiochi, vabbè, siti internet, quindi appunto sono universi complessi. I film sono gli elementi pivotali, centrali degli immaginari di questi universi, appunto, con tante poi fughe in altri media, e questo Spider-Man No Way Home appartiene appunto al Multiverse Saga, l'ultima parte, è un film che io amo molto, tanto perché è un film interessante, poi fa questa operazione, riunisce tutti i precedenti, ad un certo punto si trovano tutti i precedenti Spider-Man, quindi proprio i precedenti attori, e adesso siamo nel multiverso, e il multiverso ci consente di fare anche questo. Sono assolutamente up to date, nel senso che dialogo con una realtà contemporanea, quindi quella appunto, multiverso è assieme all'attualità virtuale, una delle, la intelligenza artificiale, ormai è una delle parole chiave del contemporaneo, tutte ovviamente da sistemare e anche da mistificare, in un certo senso, il dibattito, solo una piccola di dibattito sulla realtà virtuale, mi sembra un dibattito assolutamente anni 70, per come si sta svolgendo, ritroviamo, interessante dal punto di vista culturale, perché fa riemergere tutta una serie di teme, essenzialmente appunto un conflitto tra tecnofobia e tecnofilia, che secondo me è così forte, non si vedeva, beh insomma, forse dai tempi della clonazione precedente del nostro Mitchell, è tutto però molto arretrato, tutto molto, mi sembra tutto molto vecchio e reazionario, cioè nessuno riesce a portare argomenti realmente originali rispetto a questo dibattito, siamo ancora, se ci pensate, a una paura che appunto noi ci portiamo dietro dall'ottocento, cioè la macchina ucciderà l'uomo, e ancora è soltanto quella narrazione lì, sempre soltanto quella, che mi sembra veramente puerile, non si riesce mai a fare uno scarto interpretativo su queste cose, forse dovremmo appunto pensarci noi che magari con le immagini abbiamo, con l'intelligenza appunto, non, l'intelligenza artificiale abbiamo qualche rapporto, come dire, un po' più smaliziato, mettiamo così, però il dibattito meglio mi sembrava molto molto cupo, molto banale, ma insomma, però dicevo quindi appunto, film che intanto partecipo ad un dibattito sulla dimensione dell'universo in parallelo, multiverso, intelligenza artificiale, e va bene, si inseriscono in quella roba, però lo faccio vedere perché, in una scena in particolar modo, io credo che poi, come dire, senza per forza entrare nell'ambito di realtà virtuale, l'esperienza cinematografica, che volevo chiudere appunto sul cinema contemporaneo, restare quindi a un vecchio medium, l'esperienza del cinema contemporaneo è anche un'esperienza che mette intelligentemente a tema alcune opposizioni, alcune dialettiche che abbiamo visto fino a questo momento, compresa quella, mi sembra la più interessante in questa scena, fra un elemento, diciamo così, magico e uno scientifico. Comunque, guardiamo rapidamente la scena. Oh, my God, I'm dead. You're not dead, you've just been separated from your physical form. My physical? What? How are you doing that with him? I have no idea. You should not be able to do that. This feels amazing. That might be one of the coolest things that's ever happened to me, but don't ever do that again. Hey, get off of me! Oh, my God, I'm dead, I'm dead, I'm dead. What is this place? The mirror dimension, where I'm in control. Strange stop, can we please just talk about this? Parker, don't you realize that in the multiverse there are an infinite number of people who know Peter Parker is Spider-Man, and if that spell gets loose, they're all coming here. Look, I know, I get it, but we can't just send them home to die. It's their fate. You can't change that any more than you can change who they are. Well, what if we could? What if we could change their fate? Whoa, what are you doing? I'm not giving you this! Whoa! 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 Give me that back! Whoa! 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 Wait a minute, is that an Archimedean spiral? The mirror dimension is just geometry? You're great at geometry, you could do geometry! Square the radius, divide my pie, plot points along the curve. It's over, Parker. I'll come pick you up when it's done. You're not dead, you've just been separated from your feet. Allora, e chiudo su questo, noi abbiamo fatto tantissime cose che si potrebbero dire appunto a partire da questa scena, per esempio, dentro, ma era l'altra lezione, dentro un'ipotetica teoria dell'immagine, questo è un saggio emblematico di come l'immagine digitale sia sempre, almeno nell'ambito del cinema o comunque dello spettacolo televisivo, sia sempre questo intreccio affascinante, affascinante, lo abbiamo ritrovato anche in altri contesti, fra scienza e magia, mondo degli specchi, realtà degli specchi, gestita appunto dal dottor Strange e matematica. Allora, questo rapporto appunto complesso fra scienza e magia, per cui appunto l'immagine digitale, questa specie di opposizione, però anche di costante riconciliazione fra due dimensioni del reale, che di nuovo la realtà virtuale perfettamente incarna appunto la dimensione dell'appartenenza e la dimensione appunto della fuga e dell'evasione. Mettersi un casco in realtà virtuale è emblematico, io mi acceco letteralmente a proposito di far venire il buio, di entrare nel buio, proprio fisicamente con il gesto lì è un dato proprio di realtà, di obliterazione della realtà fortissimo. E al tempo stesso entro, come appunto nel panorama di Barker, entro in una realtà più luminosa, no? E va bene, sono tutte soglie che in modo diverso, l'abbiamo visto, le macchine spettacolari in qualche modo sempre disegnano, forse devono disegnare, fino ai conti anche un libro ha la sua soglia cruciale che è la copertina, e da lì si entra, e gli ingressi e le uscite possono essere più o meno segnate. Però vi dicevo, nel caso appunto di questo cinema, di questa dimensione dell'esperienza di mesi animazione, e poi si racconta tra altre cose, si mettono a tema altre questioni del contemporaneo, come quelle di una specie di ontologia dell'immagine digitale. Però mi sono fermato qui, volevo appunto chiudere su questa questione. Io ho provato, insomma, un po' freestyle forse, però mi interessava, ripeto, più darvi delle sollecitazioni, piuttosto che farvi una lezioncina strutturata, darvi delle sollecitazioni su come appunto il corpo dell'osservatore, l'osservatore in quanto appunto corpo e sguardo, di fronte o in mezzo o dentro uno spettacolo multimediale, è stato non solo diversamente postulato, non solo diversamente coimplicato, a seconda appunto dei dispositivi macchinari, ma anche appunto diversamente immaginato. Noi oggi, e ripeto, non solo nell'ambito della realtà virtuale, ma anche nell'ambito di questo cinema, grazie poi essenzialmente appunto a un ingranaggio tecnologico che è la regia digitale, l'immagine digitale, l'immaginazione digitale, noi oggi al cinema sempre più spesso, dal punto di vista del ruolo dell'osservatore del corpo, siamo spinti a fare questo tipo di esperienza appunto, a separarci dalle sembianze fisiche, non ovviamente in termini concreti di empirci, sempre noi col nostro corpo siamo al cinema, ma, e lo avete visto anche da questa breve sequenza, uno degli aspetti più affascinanti, ho usato poco fa questa parola, parola di soggettiva, tecnomorfismo, uno degli aspetti più affascinanti, il cinema contemporaneo, blockbuster, iperdigitale, questo cinema è in larghissima parte fatto in CGI, non appunto girato su un set, Avatar ovviamente è l'esempio, uno degli aspetti più affascinanti, dicevo, è renderci ingranaggi di un meccanismo che fa definitivamente eccezione del corpo umano, cioè il percorso, idealmente, che poi è ciò che Crari nel suo studio dà come scenario contemporaneo, ma su cui non lavora, è la definitiva separazione del corpo dello spettatore dalle immagini. Allora, l'osservatore contemporaneo, anche di questo cinema, è sollecitato e, ripeto, ma in termini assolutamente costruttivi, se no addirittura, come dire, proiettivi rispetto a ciò che ci aspetta nel futuro, realtà virtuale, aumentata, multiverso, eccetera, è spinto, è sempre più spinto a farsi parte di un ingranaggio che lo eccede, tecnomorfismo, non antropomorfismo, che lo eccede, e però al tempo stesso lo introduce in uno spazio, come quelli che quasi tutti i film della Marvel ci raccontano, appunto, un spazio multiverso, in cui, appunto, separati, come l'uomo ragno, separati dalle proprie sembianze fisiche, però siamo in grado, appunto, non diventare fantasmi, una fantasmagoria, ma di esercitare un potere ulteriore, un potere, appunto, che sta alla base di un'evasione che è molto più di un'immedesimazione. Quindi siamo a un grado, appunto, che è, appunto, isomorfo, direbbe, creare, isomorfo, però, ha una nuova tecnologia, un nuovo apparato tecnologico spettacolare, che è quello, appunto, in questo caso, del cinema digitale, non più meccanico, non è più il panorama, il diorama, la fantasmagoria, che erano di fatto, appunto, pur nella loro mescolanza disordinata, erano spettacoli per metà, appunto, scientifici e fisici, meccanici, e per metà, appunto, magici, ma siamo di fronte, appunto, dentro un spazio puramente virtuale, in cui, appunto, l'osservatore è spinto, però, a fare esperienze di integrazione, di incasto rispetto ai meccanismi, appunto, spettacolari, che sono, appunto, esperienze che, appunto, tecnomorfi, ma tecnomorfi è proprio il serio, che lo esercitano, diciamo così, lo fanno esercitare in esperimenti, appunto, che, appunto, di nuovo, sono esperimenti che implicano il suo corpo e le sue prestazioni in modo completamente nuovo, senza per forza, ripeto, certo, nell'ambito del simbolico, ovviamente, al cinema, ripeto, siamo sempre seduti nei nostri poltroni, però senza per forza evadere nella realtà virtuale, indossando un casco, poi, questa logica, questa, appunto, questa tecnica dell'osservazione che possiamo materialmente esercitare nell'ambito della realtà virtuale, certamente il cinema contemporaneo, se potevamo prendere anche altri esempi, la mette a tema e la pratica in altre forme, che, però, appunto, sono sempre in qualche modo coerenti con una, e adesso mi, ecco, con, appunto, una logica.